I soliti libri che sono di consultazione, per chi volesse anche approfittare per prendere il titolo e poi ovviamente ordinarlo. Oggi si parla della natura autentica, di cui Giso Forzani e anche con il mio contributo è stata fatta la traduzione nostra, che è questa qua. E questa se ne era ancora in commercio, anzi l'agenzia ci ha avvisato che se ne vogliamo le possiamo ordinare. Adesso purtroppo io mi trovo con una sola coppia nuova, che è questa. No, non è questa, è quella che è là, quella è nuova, che se qualcuno la volesse la può prendere ovviamente. Se qualcuno, credo, molti riconoscono e penso anche io, che è l'opera di Dogen più significativa. Chi fosse interessato, io l'ho ottenuta, qui è 14,46 euro, l'ho ottenuta precedentemente con un buon sconto. Quindi se per caso c'è un gruppo di persone che la desidera e volesse servirsi di questa opportunità, la ordiniamo la prossima volta ve la trovate. Basta poi lasciare il vostro indirizzo alla fine. Poi non dimenticatevi di andare a vedere l'acero giapponese, che l'acero nel suo momento è l'autunno, quando le sue foglie sono a ramanto. Però già adesso, vedere quell'armonia di quelle foglie, eh? Vedi qua, poi nell'intervallo andate a vedere. Mi pare di non avere altro da dire. Basta. E dopo tu dirai, dopo la fine e anche per l'eventuale, eh? Penso. Allora, benvenuti anche oggi a questo incontro che, come ha anticipato Padre Luciano, ci mette di fronte, o meglio ci fa incontrare con due testi tra i più importanti, sia scritti da Dogen, sia da Eckhart. Questa è anche un po' la mia opinione. Beati Pauperes Spiritu per Eckhart e Bouchot per Dogen sono due pietre miliari, due vette del loro pensiero e della loro esperienza. E io stesso, devo dire, faccio anche fatica a parlarne, così come si fa fatica a parlare del volto della persona più amata, nel senso che non c'è parola che possa esprimere veramente in modo analitico la bellezza che si prova nella contemplazione. Quindi di fronte a questi testi, quando cercavo di preparare delle cose da dire, mi rendevo conto che erano ancora di più delle altre volte insufficienti, qualunque tipo di parola cercassi di trovare per commentarli, per corrispondere. Però siamo qui e proviamo comunque a restituire almeno un frammento, una scintilla della ricchezza di questi testi. Ho certo anche, devo dire, all'inizio di collocarli non alla fine di questi nostri sette incontri, ma al penultimo incontro, perché così idealmente l'immagino come una vetta a cui si può in parte cercare di accedere, da cui però bisogna anche poi sapersi distaccare. Cioè è sempre importante anche il ritorno, non è che lo scalatore sale in cima alla montagna e si appropria della vetta e ci si attacca. Bisogna anche sapersi distaccare dalle vette e quindi c'è anche una sorta di riflusso. In questo senso ho pensato di collocarli nel penultimo incontro, in modo tale che la prossima volta poi ci vedremo fra due mesi, in mezzo c'è la settimana di Pasqua, come se l'idea che ci fossero state delle onde o dei cerchi concentrici che possono intanto maturare per farci apprezzare quello che sarà quest'anno l'ultimo incontro con i testi che leggeremo a fine maggio. Insieme appunto Bouchot e Beati Pauperes sono una polarità in cui ancora di più forse si incontrano questi due percorsi di ricercanti dello spirito e catedro che non si sono mai incontrati, l'abbiamo detto più volte, non hanno nulla a che fare da un punto di vista storico, da un punto di vista materiale, ma anche queste sono categorie non assolute. L'incontro nella storia, il fatto che ci siano traduzioni di testi che uno abbia letto o incontrato i testi di altri, c'è qualcosa che può passare anche indipendentemente dalle contingenze storiche. Persone che non si sono mai conosciute materialmente hanno magari un'intimità tra di loro molto più forte che non persone che hanno condiviso lo stesso cammino che si sono cresciute negli stessi ambienti parlando la stessa lingua. Partiamo da Bouchot, partiamo dal testo di Dogen che è anche uno dei più difficili oltre che dei più belli. E' anche abbastanza lungo rispetto ad altri testi che abbiamo letto, per questo infatti con padre Luciano abbiamo scelto la prima e l'ultima parte, non sarebbe stato possibile nell'arco di un pomeriggio leggerlo nella sua integralità. I primi due, tre capitoli, paragrafi e gli ultimi due ci possono aiutare almeno ad avere una idea di quello che cerca di dire, di quello che cerca di comunicare, della testimonianza che cerca di dare, anche in questo caso attraverso le parole. Il saggio, il testo, lo scritto Bouchot è stato pronunciato come un sermone da Dogen nel 1241 e trascritto un paio di anni dopo da uno dei suoi discepoli, da Koun e Joe che diventerà il suo successore. Fin dal titolo noi incontriamo uno dei concetti più importanti di tutto il buddismo, non solo giapponese e non solo di Dogen, perché Bouchot traduce una delle nozioni fondamentali, potremmo dire l'esperienza fondamentale del risveglio, è Bouchot. Il risveglio che storicamente si dà attraverso la meditazione di Siddhartha, Gautama, detto il Buddha, ma che, e questa è proprio anche una delle dimensioni radicali della sua intuizione, che non è legata ad un'unica persona, ad un'unica esperienza, ma che permea ogni esperienza di vita, ogni esperienza di mondo, che è la radice primigenia della vita stessa. Si traduce in modi diversi, Bouchot, la traduzione diciamo più standardizzata di quella che in genere si ritrova nei testi che siano tradotti dal sanscrito, dal cinese o dal giapponese, è natura di Buddha. Natura autentica è un'altra possibilità di tradurre, natura di Buddha, e che forse è da preferire nel suo ritrarsi da questa attribuzione genitiva, appropriativa. Perché dire natura di Buddha, sebbene filologicamente corretto, poi vediamo anche il termine Bouchot come si compone, è una traduzione corretta, però sembra lasciar intendere che questa natura sia un possesso del Buddha, sia qualcosa che solo il Buddha storico o un Buddha, un risvegliato, effettivamente possiede o raggiunge. Mentre l'idea è esattamente speculare, opposta potremmo dire. La natura che sta descrivendo qui Dogen non è la natura che appartiene a qualcuno in modo privilegiato, non è qualcosa che appartiene assolutamente, perché non è un oggetto di possesso, ma è qualcosa che tutti sono, che ciascuno è. E qua vediamo anche, ci dovremmo insistere un po' su questa differenza decisiva nella lettura di un carattere sino giapponese tra avere ed essere. Avere natura autentica o essere natura autentica. Avere natura di Buddha o essere natura di Buddha. A me fa sempre pensare questo gioco che abbiamo visto anche la volta scorsa, Dogen spesso utilizza la lingua per sovvertire i significati tradizionali delle parole. E a me fa venire in mente anche la frase che già abbiamo più volte anche citato di Gesù quando dice io sono la via, la verità e la vita. Ego, eimi, eodos, ealezea, ezoe. Io sono e non io ho, non io possiedo la verità. Gesù non dice mai che possiede la verità, ma dice che la è. E che la è contestualmente ad essere la verità e ad essere la vita. e anche qui avevamo, mi pare, sottolineato il fatto che in greco zoe è la vita non bios, non la vita singola, non la vita individuata e individuale, ma è una vita che fluisce in ogni cosa, che è presente in ogni manifestazione della realtà. Quindi è la vita che si fa attraverso di noi e non c'è mai qualcuno o qualcosa che possiede, che afferra, che tiene in oggetto, come oggetto, in un pugno, la vita. Busciò, allora, vediamo già subito questo termine. C'è sulla copertina di questo libro e io l'ho scritto con carattere antico giapponese, qui. Questi sono i primi versi che poi leggiamo che compaiono nel testo in giapponese. Il piccolo interno. Questo suo, secondo i deogramma, era stato incollato su una pagina e ne è mandato i deoniani. Nel viaggio si è un po' scollato e i deoniani non hanno percepito che era finito un po' torto e l'hanno pubblicato un po' torto. Però è più in piedi. Questo qui, questo secondo ideogramma, sta più diritto originalmente. Qui è un po' torto perché, viaggiando, si è scollato un po' torto. Busciò. Questo carattere, semplicificato, si scrive così, e da solo si legge Butsu. Butsu è Buddha, il modo in cui in giapponese si scrive e si pronuncia Buddha. In cinese si pronuncerebbe fo, fo xin, in cinese bu shou. Butsu, shou o sei, si contrae alla lettura di questi due caratteri e diventa bu shou. Shou si compone di una parte a sinistra del carattere che è il radicale per coccolo, cuore, mente. L'avevamo trovato in shinjin datsuraku. Shinjin, corpo, mente. È qualcosa che non ha a che vedere solo con la dimensione intellettiva, ma anche con la dimensione del cuore, come muscolo, per teaco, come corpo, ma anche come qualcosa che è legato all'emozione. e anche come qualcosa legato al nucleo essenziale di qualcosa, come anche noi in italiano diciamo il cuore della questione, il cuore della situazione. Concorro a tutti questi sensi. E qui compare in forma sintetica come radicale, come si utilizza, si dice. Radicale sta alla radice di questo carattere più complesso che presenta come secondo elemento questo di vivere o nascere. E noi abbiamo incontrato in un altro testo di Dogue, shouji. Vivere e morire, nascere e morire, o nascita morte. Da solo questo carattere, si può pronunciare stay o show, tra le altre pronunce. Insieme, cuore e vivere nascita, si può tradurre come natura. Non la natura nel senso del paesaggio naturale che sta fuori di noi, come insieme delle piante, dei fiori, degli animali. Ma natura come dimensione essenziale, la natura propria di qualcosa. La caratteristica, tra l'altro si traduce anche come caratteristica o qualità essenziale di un elemento. Quindi Bouchot è la qualità della dubita, dell'essere Buddha. La natura specifica che possiamo individuare come simbolizzata nell'esperienza del Buddha. Ma anche qui, come dicevo prima, dobbiamo intendere non natura che appartiene soltanto a quella persona che noi usiamo a chiamare Buddha, vissuta nel VI o V secolo avanti Cristo. Ma questo essere Buddha è in realtà la natura che pertiene, che è legata, che si manifesta in ogni essere. In linguaggio cristiano potremmo forse parlare di natura cristica, che non è qualcosa che si lega soltanto ed esclusivamente ad una persona nata con il nome di Gesù è morta in certe condizioni, anche se storicamente in quella figura chi crede nella dimensione della fede cristiana riconosce una individualità assoluta, una specificità particolare. Ma il messaggio di Kierigman, l'annuncio, dice che tutti sono figli di Dio, in tutti è presente la natura di Cristo. In questo caso, tornando al linguaggio buddista, diciamo, Bouchot è natura autentica, genuina, primigenia, che si manifesta in ogni fenomeno, in ogni elemento, in ogni frammento di realtà. Non solo nella realtà pienamente realizzata, è una persona bella, famosa, ricca, che ha realizzato i suoi sogni, ma anche nella persona nei suoi momenti peggiori. Anche in quei momenti c'è la natura di Buddha. Questa è già una delle cose anche difficili da accettare, perché tenderemo subito a dualizzare, a distinguere, a discriminare. Da una parte c'è tutto quello che è bello, buono, riuscito, realizzato, e va bene, e ci piace tanto, e vorremmo sempre stare lì. E poi c'è tutto quello che invece è male, è negativo, è dolore, è lacrima, è sofferenza. E questo lo vorremmo sempre scartare, ignorare, possibilmente evitare. Invece tutto è natura di Buddha. Bouchot, partiamo da qui, ha questo senso molto ampio. Non è un possesso, non è qualcosa che si accumula con dei meriti, non è qualcosa che si può, come dire, costruire con un processo di volontà personale. Non è un oggetto di volontà. Io non decido di diventare Buddha, così come un artista non decide di fare un capolavoro, così come un innamorato non decide di innamorarsi, ma viene invaso, viene sospinto da un vento, viene avvolto da un sentimento. L'intuizione del Buddha è che Bouchot, che è natura di Buddha, da sempre, per sempre, ma in realtà è un sempre, per sempre, che non è un tempo infinitamente esteso, è qualcosa che sta al di là del tempo, avvolge, contiene, accoglie ogni manifestazione. Con un procedimento che, come dicevo poco fa, Dogen ci ha abituati ormai a vedere, a verificare, e anche Eckhart, anche Eckhart, abbiamo visto, utilizza delle citazioni di passi biblici, o di maestri a lui precedenti, e mentre le cita per avvalorare, per così dire, la propria predica, il proprio sermone, il proprio pensiero, anche basandosi legittimamente su un principio di autorità, vedete, dicevano i maestri, in Cina spesso si diceva Confucio, questo avvalorare il proprio pensiero facendo ricorso ad un sapere sedimentato nella tradizione, ma tanto Eckhart quanto Dogen spesso citano sovvertendo il significato che tende a essere irrigidito dalla tradizione. È come se sapessero, e fossero ben consapevoli, che la tradizione è un grande serbatoio, è una grande ricchezza di energia, che però può sempre correre il rischio di venire avvilita dalla tradizione isterilita, dall'adagiarsi su una serie di concezioni che diventano statiche, che non producono nuova vita, ma che invece tendono a fissarsi, a irrigidirsi. La citazione da cui parte Dogen è tratta da un famoso sutra della tradizione del buddismo Mahayana. Anche qui abbiamo più volte incontrato queste, diciamo, tripartizioni, grandi correnti nel buddismo. Scuola degli antichi, Theravada, poi nominata Hinayana, piccolo veicolo, da coloro che si sono attribuiti invece l'appartenenza al grande veicolo, Mahayana. Lo Zen appartiene a questa grande corrente di scuole che, alcuni secoli dopo la morte del Buddha, hanno iniziato a diffondersi soprattutto verso l'Asia orientale, in Cina, in Corea, in Giappone, autodefinendosi Mahayana rispetto appunto alle correnti precedenti, soprattutto per il fatto che consideravano non necessaria la vita monacale per poter raggiungere, per poter vivere pienamente l'esperienza del risveglio. La terza grande corrente è quella che poi soprattutto attecchisce in Tibet, nel nord dell'India, il buddismo Vajrayana, che in occidente noi tendiamo a chiamare il buddismo tibetano, ma in realtà il buddismo nasce in India e tutte le correnti partono da lì. Uno dei più famosi sutra delle correnti Mahayana, buddiste, è il Mahapari Nirvana Sutra, in giapponese Nehangyo, Sutra, Nirvana Sutra, anche citato più semplicemente, in cui nella traduzione giapponese si leggono quei quattro versi. Possiamo leggere la traduzione, diciamo, la versione tradizionale, sia nel sanscrito, nella traduzione del sanscrito, sia nelle traduzioni dal cinese e dal giapponese, recita così, la totalità, Isai, una cosa, nella sua totalità, la globalità, Shūjō, degli esseri viventi, Jō, vedete, vivere, nascere, con lo stesso carattere, che si può imparare da solo, la totalità degli esseri viventi, tutti gli esseri viventi, gli esseri viventi come tutto, possiamo sbizzarrirci, ma il senso generale che viene dato tradizionalmente è questo, tutti gli esseri viventi, tutti, Shī Tzu, hanno la natura di Buddha, Buddha, Bushō, tutti gli esseri, in quanto totalità, hanno la natura di Buddha, scusate, qui ho sbagliato un carattere, infatti è un test, questo è il termine, uno dei caratteri, su cui, diciamo, lavora, insiste molto, in questo testo, dove? In cinese si legge, Yō, in giapponesi si legge, Yu, oppure, U semplicemente e anche compone il titolo di uno degli scritti di Dogen Uji, essere tempo esserci tempo in cinese è Dogen in Cina e alimente il giapponese del XIII secolo è un giapponese fortemente sinizzato ancora in questi testi i sutra buddhisti che vengono tradotti dal sanscrito sono tradotti in cinese e i monaci giapponesi li leggono in cinese con la pronuncia giapponese ma con la grammatica tradizionale cinese questo U significa avere possedere significa trovarsi in un luogo, esserci qualcosa è sul tavolo il bonsai è sul tavolo possiamo dire io oppure un essere nel senso di esistere anche trovarsi ad accadere quello che non significa è essere nel senso occidentale greco del termine cioè un essere separato precedente antecedente le sue manifestazioni nel senso cinese giapponese non c'è l'idea di un essere distinto dal direnire questa invece se vogliamo la grande intuizione fornita dalle risorse delle lingue occidentali il greco il latino l'italiano il tedesco possono sostanzializzare l'essere noi usiamo il verbo essere come verbo ma lo possiamo dire come sostantivo mentre noi scriviamo un articolo l'essere e succede lo stesso in francese in tedesco in inglese sein essere in tedesco significa l'essere in greco diventa ton l'essere in quanto tale questo non c'è in cinese e in giapponese ed è importante sottolinearlo per evitare di pensare che quando noi leggiamo traduciamo con essere questo verbo abbiamo in mente questo zoccolo duro questa sostanza fissa che non muta che permane a cui ci possiamo attaccare il grande problema della filosofia greca è ma se tutto diviene dove vanno le cose da dove vengono dove ritornano c'è qualcosa che non muta al di là del mutamento come facciamo a diceva Platone salvare i fenomeni questi fenomeni che se ne vanno che ci sfuggono deve esserci qualcosa uno zoccolo duro uno scoglio una roccia a cui poterci aggrappare il buddismo in certi versi guarda in un'altra direzione ci aiuta ci addestra a vedere altrimenti non perché una cosa sia migliore dell'altra ma perché ci sono modi diversi di abitare il mondo e modi diversi anche di sfruttare le risorse che le lingue che la pluralità delle lingue ci dà però quando noi leggiamo U dobbiamo pensare a questa pluralità avere esserci trovarsi e quando si traduce un po' tradizionalmente Shizuru Busho si traduce tutti gli esseri hanno la natura di Buddha tutti gli esseri possiedono la natura di Buddha o la natura autentica o la natura genuina la dimensione essenziale è posseduta da tutti gli esseri Nyorai e qua infatti avevo invertito i caratteri Nyorai in giapponese è un termine che traduce il sascritto Tathagata l'andato così colui che è giunto alla perfezione Nyor così come Rai andare andato è colui che è andato colui che si è compiuto mi verrebbe da pensare in traduzione a Zerdata è colui che ha raggiunto il pleroma in greco pleroma è la pienezza è colui che ha che è perfetto nel senso proprio etimologico del termine perfezio significa il compimento ciò che ha compiuto perfetto non è colui che è senza macchia senza errore ma è colui che è riuscito a compiere totalmente se stesso a realizzare se è realizzato anche potremmo dire e quindi potremmo anche tradurre in buddha nel senso stretto il perfetto che è anche la perfezione non è soltanto un soggetto individuale è il perfetto in quanto portatore della natura di buddha è il divino in quanto portatore di dimensione divina il perfetto Jō Jū permane sempre Jō costanza permanenza mantenimento questo Jō compare nel termine buddhista Mù Jō in permanenza non permanenza invece in questa frase si legge il perfetto permane sempre tutto muta i fenomeni passano ma il perfetto la dimensione essenziale la natura di buddha permane sempre nu jū jū jñākū non senza mancanza assenza avere non jū jñākū mutamento trasformazione cambiamento quindi rileggendola tutta nella versione ripeto tradizionale tradizionalmente tramandata la totalità degli esseri viventi tutti hanno la natura di buddha il perfetto permane sempre non ha mutamento che cosa fa Dōghe? Dōghe parte dalla tradizione quindi non la nega non dice non non dovete assolutamente seguire quello che c'è stato anche qui volendo fare sempre i salvi anche Gesù cita sempre la Bibbia e non dice è sbagliato tutto quello che c'è scritto in Antico Testamento dice è scritto e io vi dico ma io vi dico come dire tenete presente quello che c'è scritto perché c'è verità ma non dovete fissarvi in un modo sterile rigido recitato a memoria dovete insufflare di nuova vita con le stesse parole e questo è quello che fa Dōghe e se io vi cito questo testo tradizionale antico ma ve lo leggo ve lo interpreto in un altro modo come lo interpreta come la lettura di Dōghe a partire da questi stessi caratteri non cambia i caratteri non è che li sposta ma li appunto fa dire loro qualcosa di diverso accentua altre accezioni possibili e legittime di questi stessi caratteri il tutto è il tutto che vive qui sottintende appunto noi occidentali dobbiamo metterci un è che non c'è la prima versione era la totalità degli esseri viventi la lettura di Dōghe si può soprattutto intendere come il tutto vive il tutto che c'è è il tutto che vive è una totalità viva quindi l'accento non è tanto sulla totalità degli esseri ma sul fatto che il tutto è un essere vivente non la totalità degli esseri viventi ma la totalità è vivente questa è qualcosa che una lingua sintetica come il cinese o il giapponese può fare le lingue occidentali molto più determinanti determinative permettono meno questi giochi interpretativi il tutto è il tutto che vive il tutto quindi non solo gli animali o le piante o gli esseri umani ogni cosa fa parte di una dimensione vivente vitale in cui si sente ispirare uno spirito Spinoza parlava di Deus Sive Natura Dio ovvero la natura la natura è il divino se vi ricordate abbiamo anche padre Luciano aveva citato una volta Panica che diceva l'affermazione secondo cui Dio è tutte le cose cioè un'affermazione tipo panteista o panteistico non è sbagliata perché dice troppo ma è sbagliata per difetto perché dice ancora troppo poco cioè Dio è tutte le cose e non solo ma è anche di più quindi dove dice il tutto è vivente anche questo foglio questo quaderno di carta anche questo pennarello anche l'aria che respiriamo è piena di vita la vita di illuminazione la dimensione di Buddha o divina è in ogni zola che noi zappiamo è in ogni muro che noi tiriamo su non è soltanto nella pulsazione biologica di animali o eventualmente vegetali il tutto è tutto che vive ogni cosa ecco qui la prima grande trasformazione ogni cosa è natura autentica non ha natura autentica ma è natura autentica ecco il grande passaggio le cose non possiedono natura autentica perché la sono la natura autentica potremmo anche fare un discorso che qui mi fermo subito ma mi piace poi lasciare aperte delle porte degli spirali è un tema che viene fuori che emerge con grandissima radicalità nel pensiero occidentale a proposito della libertà quando ci si chiede ma abbiamo libertà o tutto è necessario tutto è necessità tutto è deterministico e alcuni pensatori dicono più che noi pensiamo che la libertà sia oggetto di possesso è chiaro che noi non abbiamo la libertà che vorremmo avere non possiamo fare tutto quello che vorremmo siamo condizionati siamo determinati cos'è che dobbiamo cercare di fare operare un scarto dal pensiero che pensa la libertà come un oggetto di possesso e quindi io mi chiedo se ho o se non ho la libertà e questi pensatori dicono in questo modo la domanda è malposta quello che ci deve chiedere è se si è la libertà non se la siamo noi siamo la libertà la libertà non è qualcosa che un'individualità soggettiva come ciascuno di noi può avere o non avere in questo modo siamo subito su una strada su un vicolo cieco ci arreniamo perché constatiamo che non possediamo la libertà non è un oggetto di nostro possesso certo poi nel disbrigolo delle faccende quotidiane va benissimo dire sono libero di iscrivervi in questa facoltà oppure no sono libero o non sono libero bisogna stare attenti anche a non usare questi discorsi per schivare le problematiche politiche che ci sono perché diventa comodo dire la libertà non è un oggetto di possesso siamo una libertà e quindi teniamo soggiogati i deboli e gli oppressi in questi casi bisogna sentire in modo forte vibrante la necessità di battersi perché qualcuno possa avere più libertà di quella che le condizioni non gli danno ma da un punto di vista diciamo più ampio spirituale filosofico religioso cambia totalmente il discorso se noi pensiamo alla libertà come un possesso come una condizione d'essere se noi pensiamo di essere detentori di qualcosa che chiamiamo libertà o se invece ci pensiamo come scintite di una dimensione di libertà che ci accoglie nella quale noi siamo e che quindi è più grande di noi e lo stesso forse anche a che vedere con la fede la fede non è mai un oggetto di possesso non lo può essere perché se lo diventa se l'oggetto di fede diventa oggetto di un possesso allora quella diventa idolatria se invece noi riusciamo a pensare di essere nella fede non di avere la fede allora che qui tutto cambia e cambia anche il nostro rapporto con la religione anche con i testi con la tradizione allora qui Doghe è molto come dire astuto potrei dire ma di un'astuzia non furbesca di una sagaccia spirituale che dice tutti gli esseri sono natura di Buddha sono natura autentica non ce l'hanno non la possiedono perché la sono la vivono la natura autentica si esprime negli esseri con gli esseri non è qualcosa di altro di separato con l'altra grande intuizione di tutto il pensiero buddista che non è che ci sia da una parte il soggetto dentro o fuori dalla verità dentro o fuori dalla salvezza dentro o fuori dall'illuminazione e dall'altra parte c'è l'illuminazione che deve in qualche modo afferrare no il soggetto è sempre nell'illuminazione solo che non se ne rende conto come noi stiamo circondati da un'area che respiriamo e siamo fatti di quest'area siamo costituiti di cellule del mondo dell'acqua che ci compone di tutte le particelle ma non ce ne rendiamo conto e pensiamo di poter essere distinti da quell'area che ci costituisce che è sempre un scambio continuo di identità e di alterità perché noi respiriamo viviamo in questo scambio attraverso questo scambio tra i denti quel diverso se non ci fosse scambio di identità e differenza non ci sarebbe vita e quindi lo stesso qui c'è una dinamica tra soggettività individuale che noi riconosciamo quando ci dobbiamo identificare con il nostro corpo con le nostre memorie con le nostre fatiche ma dice Doghe non siamo solo queste cose siamo in realtà queste fatiche queste identità questi corpi sono all'interno di una dimensione più ampia che è la natura autentica terza riga la lettura tradizionale diceva il perfetto permane sempre e qui Doghe più o meno resta in linea ciò che è perfetto neorai risiede perenne resta in quanto tale quindi perenne resta identico a se stesso non è qualcosa che a un certo punto ci abbandona tradisce c'è e poi non c'è più si dà e poi si ritrae la dimensione autentica accade sempre in ogni momento risiede perenne io penso si possa intendere in questo modo qui però ecco la trasformazione radicale dell'ultimo verso invece di dire continuando dalla riga precedente il perfetto permane sempre non ha mutamento Doghe legge ciò che è perfetto risiede perenne è niente è ente è mutamento e qui ecco però totalmente trasformata dobbiamo sentire la difficoltà della traduzione perché quando noi cerchiamo di rendere in lingue occidentali questi caratteri dobbiamo anche mettere delle cose che immediatamente non ci sono questo è è niente è ente è mutamento non c'è questa copula è c'è niente assenza c'è esserci presenza determinata c'è mutamento trasformazione cambiamento che davate sembra contrastare con quello che diceva prima ma come risiede perenne e poi ci dice che è mutamento ci dice che è mu che è niente che è nulla che è assenza e ci dice che è qualcosa che è presenza che è ente che è e non che non è ma è proprio qui da un lato anche il grimandello noi non dobbiamo fissarci in nessuna definizione cosa che cerca di fare qual è l'aspirazione sempre di qualcuno che vuole aggrapparsi ad una verità poterla definire una volta per tutte poterla tradurre in parole in modo tale da costruirsi una specie di frase passepartout di slogan che ci dica questo è il Buddha questo è Dio questa è la fede e invece Dogel spiazza continuamente se volete sapere che cos'è io vi dico che è e che non è che è perenne e che non permane mai vi dico che è non e che è sì che è no e che è sì che è qualcosa di più ampio di ogni possibile classificazione o categorizzazione ma anche qui attenzione è un continuo salto mortale carpiato è e non è ma è anche in questo mio tentativo di rendergli testimonianza attraverso le parole non è che allora devo sospendere il linguaggio e smettere di parlare perché tanto nessuna proposizione è sufficientemente potente da poterlo contenere è vero nessuna proposizione può esaurire la natura autentica ma non devo neanche pensare che per questo motivo la natura autentica non possa darsi in una proposizione anche in un parlare anche in uno scrivere con con tutti i limiti che lo scrivere ha ma perché perché il perfetto non è qualcosa che stia soltanto al di là dei limiti c'è anche nei limiti e quindi c'è anche nei limiti del linguaggio se io riesco a usare il linguaggio o meglio a farmi strumento del linguaggio perché anche il linguaggio non è un possesso noi siamo più posseduti dal linguaggio che non possessore del linguaggio perché noi abitiamo il linguaggio come una casa quando noi abitiamo la casa in qualche misura ne siamo contenuti io dico questa è casa mia ma in un certo senso è quasi un errore perché sono io che appartengo alla casa sono io che sono stato generato da una terra il fatto che io dica mia come quando dico la mia ragazza il mio marito non è un mio di possesso è un mio per dire che io mi riconosco in questa relazione questo è è il mio che apre e non è il mio che chiude non possiedo la casa non possiedo il linguaggio ma ne sono continuamente generato allora secondo me anche questo è importante da sottolineare in tutto il percorso dei testi che stiamo leggendo sia in Dogen che in Eckhart non dobbiamo pensare che il linguaggio possa definire determinare delimitare una volta per tutte la naturale autentica ma non dobbiamo neanche allora pensare che sia uno strumento da gettare via da ignorare da mortificare no la naturale autentica passa anche attraverso il linguaggio senza fissarsi transita nelle parole senza che ci sia nessuna parola che la esaurisce transita nei corpi la naturale autentica senza che nessun corpo la possa trattenere infatti i corpi accadono si danno si sviluppano e passano quanti miti di vita di stradulla vita eterna che animano non solo il presente ma anche dalla ricerca antica della pietra filosofale dell'isivio di lunga vita anche in Cina è stata animata da questo tentativo di trattenere la vita la verità la dimensione dell'illuminazione in realtà l'illuminazione appunto non è qualcosa che possa essere trattenuta e anche Gesù risorto dice non mi trattenere è giusto che io vada io devo andarmene perché continuo a transitare lo spirito se mi vuoi trattenere paradossalmente crede di fare la massima opera di devozione e in realtà tradisci con lo stesso messaggio che sto cercando di darti sto cercando di darti così faticatamente che devo anche morire in progetto e farvelo capire e anche Buddha anche Zoh che dice non trattenere la parola ma lascia che la parola sia transito di qualcosa ci saranno altre parole ci saranno altre frasi che ospiteranno la verità ma la verità è come un ospite che si ferma da noi per un po' riscata la casa e poi se ne va perché se noi tratteniamo quell'ospite non ne comprendiamo veramente il messaggio ci attacchiamo alla cosa alla persona alla figura al santino e non sentiamo il respiro che invece quella figura dovrebbe veicolare allora ecco il perfetto la natura autentica sono tutti sinonime possiamo usare Buddha possiamo usare natura autentica possiamo usare illuminazione è ma che qui mettiamo in parentesi questo è perché la nostra lingua ha bisogno di utilizzare una copula per costruire una frase dotata di senso dovremmo dire alla lettera ciò che è perfetto niente ente mutamento oppure non esserci esserci trasformazione tre modi per dire una stessa cosa che però si dà in dimensioni differenti ciò perfetto ciò che è ciò perfetto eh sì perché il relativo non c'è in giapponesi non esiste il relativo e non esiste appunto la copula come la intendiamo questo è che che fissa che tende a identificare qualcosa poi lo vediamo anche più avanti anche sul testo quello che noi chiediamo con l'esercizio l'antica come talmente sì sì anche in eratico c'è per esempio il Dio è giorno-notte sazietà-fame inverno-estate e non c'è neanche poi né la conduzione e non dice inverno-estate sazietà-fame e non c'è neanche poi il verbo essere esplicitato Dio giorno-notte sazietà-fame questa dimensione che è ossimorica cioè antiteplica tiene insieme cose che non dovrebbero stare insieme secondo la logica funzionale se è uno non è l'altro non fa essere pieno vuoto vita-morte e invece questo è proprio ciò che un pensiero un'esperienza di questo tipo sfida questo pensiero logico che esclude gli opposti e invece questi devono tenere insieme con comprensione comprendere cum tenere insieme senza distinguere senza se ne fare da un punto di vista come dire della totalità della perfezione poi abbiamo visto due volte giustamente sono interventi domande sulla questione poi del negativo del male inscritto nella storia questo tipo di discorso non significa allora siate ciechi rispetto a tutti gli episodi di detrovazione di possibilità che la vita dà o che alcuni esseri umani compiono i danni di altri non significa essere ciechi alle rapine dei potenti ai danni dei deboli ma significa riuscire a riassorbire anche quegli aspetti anche quegli elementi in ogni missione più ampia e quindi c'è da un lato il sapere si immergere nel tessuto della storia e dall'altro saper vedere che non è la storia l'ultimo elemento ma c'è qualcosa che tiene anche la storia che la raccoglie e che non è storico e su questa dialettica dall'altro buddismo cristianesimo dialogano in modo molto feconde perché talvolta è come se anche fossero diciamo accentuassero un aspetto rispetto all'altro l'altro dove uno magari tende a a vedere soprattutto l'aspetto astorico ecco che l'altro dice no attenzione ma c'è anche la storia e là dove invece c'è il rischio di un eccesso di immanenza storica di non riuscire a vedere l'aspetto mistico che ingloba la storia ecco che l'altro accedo e dice sì però attenzione che la risurrezione è qualcosa che non è soltanto legato alla storia l'illuminazione non è qualcosa di soltanto storicamente determinato da parentesi da parentesi giovedì sera mi sono stato invitato a vedere una serata di tamburi tamburista che quando vengono a Milano in genere mi invitano e mi diceva il marito di questa signora giapponesa che organizza la quale ha ricevuto il battesimo da me quattro anni fa dice a mia moglie perché sua moglie era tutta affarata mia moglie dice o è la prima e riesce a fare tutto perfettamente o è l'ultima non fa più niente non riesco mai a farla essere la seconda mi diceva no e questa è un po' la tendenza proprio della mancanza di non aver sviluppato l'intermedio ecco l'Oriente non sviluppa l'intermedio sviluppa perché si lascia assorbire da quella profondità di ogni momento e quasi non ossidimento non sente il grande il valore anche del cementare dell'intermedio tra le cose no quindi andate a vedere Tokyo ogni casetta può essere un capolavoro però non hanno la distensione delle 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 nostre città che abbiamo in Toscana in Umbria dove una casa è appoggiata all'altra e sembrano che proprio devono essere così no? lì sono proprio al loro posto no? invece le città giapponesi sono costruite ogni casa è il perfetto no? e quindi Dogen che ha accolto che questo perfetto è trasformazione e anche se tanti non non l'hanno percepito no? è una grande intuizione io penso che il Buddha che dice che ha predicato la via di mezzo è perché ha colto anche in un certo senso il limite delle del rapporto con la realtà focalizzata in quell'attimo no? che ti fa perdere poi quella interdipendenza o interconnessione con il tutto scusa grazie un'ora per leggere tre righe non sto andando molto bene come era l'attività però allora adesso cerchiamo di andare un po' più spediti esatto adesso proviamo a passare all'altro al veloce che cosa? la mutevolezza associata all'impermanenza sì sì senza dubbio c'è questo aspetto che si lega in modo appunto paradossale alla permanenza la non mutevolezza del perfetto la non mutevolezza è impermanente l'impermanenza è proprio questo darsi della perfezione il fiore è perfetto non perché resta ma perché sfiorisce la sua perfezione è nella sua impermanenza anche qui noi in occidente anche l'arte ha cercato soprattutto di mostrare la dimensione eternizzante i gusti greci le statue i templi cercavano con tutto ciò che di positivo anche c'è in questo di insistere su qualcosa che trascendesse che andasse oltre il fluire del tempo e poi però invece ci viene dalla saggezza del mondo orientale dal Giappone anche un'altra voce che ci dice la bellezza non è soltanto non è tanto in ciò che si fissa ma è in ciò che passa proprio perché passa nonostante il fatto che passi anche qui in genere si arriva a dire è bello nonostante il fatto che passi invece è bello perché proprio perché passa e quindi qui anche c'è un'idea per cui la concezione del Nirvana appunto questo Nirvana Sutra Nirvana significa estinzione sgonfiamento in un certo senso è lo scioglimento dai vincoli della Brahma dell'attaccamento e quindi potrebbe anche essere un simbolo efficace per dire il distacco quello che Eckhart chiama distacco Nirvana è distacco appunto in questo senso lo sgonfiarsi di ogni volontà egoica dell'ego di fare presa su qualcosa di aggrapparsi di trattenere qualcosa allora da questa idea di estinzione a cui si rischia di nuovo di aggrapparsi perché c'è sempre questa trappola come il problema del vuoto io mi libero di tutto estingo la mia sete il mio attaccamento alle cose materiali alle cose anche spirituali magari all'ego del monaco ma resto attaccato a quell'ultima forma estrema che è il Nirvana il paradiso il Buddha quindi attraverso questa idea che il perfetto è niente è ente è mutamento è come se Dogen cercasse di dirci passate fate converge convertite lo sguardo guardate altrove non attaccatevi all'idea di estinzione ma estinguete l'idea che ci sia un'estinzione una perfezione da raggiungere un solido scoglio a cui aggrapparvi estinta questa idea recuperate riguadagnate tutto quello che credevate di avere perso tutto quello che credevate di dover abbandonare con tristezza o con rabbia con sforzo o con abnegazione è un po' come quando si legge abbandonate tutto e riavrete il tutto centuplicato è solo attraverso questo movimento di spoliazione che ci si scopre molto più ricchi di quando si cercava di accumulare finché accumulo e cerco di ammassare mi sembra di non averne mai abbastanza quando invece inizio a dare scopro di avere sempre di più è come un ruscello che continua a sgorgare quanta più acqua fa uscire tanta più acqua riesce a irrigare e a scoprire nella propria polla sotterranea se invece io trattengo allora dissipo allora lì veramente non ho questo è il ruggito del nostro grande maestro Shakyamuni un altro dei nomi è Buddha Gautama Siddhartha è il nome proprio di persona Gautama è il cognome della famiglia degli Shakyamuni che ha dato un pulso al risveglio questo è il vertice e la pupilla di tutti i Buddha e di tutti i patriarchi qui nota penborin sono tre caratteri mettere in moto la ruota della dharma della legge ho in giapponese o bo in tenborin mettere in moto la ruota è una delle espressioni tradizionali per dire che Siddhartha ha dato storicamente l'impulso ma in realtà appunto non è lui l'unico Buddha tutti sono Buddha tutti sono dimensione essenziale natura genuina e autentica questo queste tre righe è il vertice la pupilla di tutti i Buddha e di tutti i patriarchi pupilla è un'altra metafora che ricorre anche nel titolo di tutti i testi raccolti di Dogen Shobo Genzo è il tesoro dell'occhio della vera legge questo occhio pupilla è come dire il nucleo essenziale saltiamo le altre righe e andiamo alla pagina successiva qual è dunque il significato di fondo dell'espressione del venerato del mondo del Buddha il tutto è il tutto che vive ogni cosa che è è natura autentica abbiamo letto questa frase ma qual è il significato il significato è dato da un'altra domanda questo secondo me piaceva anche molto agli amici tradizione ebraica a questa sorta di continuo rimettere in questione c'è un rabbino francese di Parigi che ha scritto un libro sul punto di domanda e dice il punto di domanda è come un amo rovesciato con cui Dio cerca di farci abboccare come se Dio ci avesse dato le domande come il pescatore getta l'amo per prendere il pesce noi facendo domande è come se corrispondessimo a questo tentativo di pesca da parte di Dio allora la domanda che pone Dogen e che secondo lui è la domanda che mette in movimento la ricerca della verità la desume da un altro episodio famoso della tradizione Zen ed è questo che cos'è che viene così traduzione laboriosa ma fedele della domanda possiamo leggere anche l'episodio riportato in nota perché è importante è anche tutto famoso gustoso un episodio che mostra l'incontro di due maestri cinesi e giapponese vengono letti chiamati Nangaku e Joe e Daikan Eno il maestro Zen Nangaku si recò in visita al sesto patriarca Daikan Eno il patriarca domandò da dove vieni Nangaku rispose vengo dal monastero del monte a Suzano dove vive il maestro nazionale Hoian il maestro nazionale era uno degli appellativi che spesso si davano ai grandi maestri il patriarca chiese questo che cos'è che viene così noi avevamo potuto anche semplicemente dire ma tu chi sei chi sei tu che vieni e anche qua a me viene in mente Gesù che chiede chi dite che io sia come dire la domanda fondamentale è la domanda rivolta ad un tu che al tempo stesso si riflette su di me ed è un interrogativo su chi sono io a seconda del modo in cui interrogo io mi scopro diverso da quello che credevo di essere sono moltissime tradizioni sapienziali che fanno leva su questo anche in uno degli episodi più rilevanti dei racconti del Graal nella tradizione provenzale Perseval che ha il compito di cercare il Graal tra il cavaliere della tavola rotonda arriva a un certo punto incontra il re pescatore che sta male che è ferito e però sta zitto e quindi non succede niente e se ne va da quel castello e crede di avere fallito la sua impresa quando torna la seconda volta reso edotto e consapevole da altri incontri fa la domanda e la domanda era una domanda banale semplice gli doveva chiedere tu chi sei e perché soffri alla domanda perché soffri il castello si presenta in tutt'altro modo tutti iniziano a fare festa e accede al Graal il Graal che non è un oggetto ma che è l'atteggiamento in un certo senso che il cavaliere ha appreso ad assumere come dice anche Giso nel commento che è riportato in questo libro ci sono delle domande che si esauriscono nella risposta a parole che noi possiamo fornire a quelle domande ci sono domande che non hanno risposta ma che hanno la loro risposta nell'atteggiamento esistenziale che mettono in moto quella è la risposta più importante e questo potremmo dire un po' sono i koan ma sono se vogliamo anche le domande filosofiche più importanti perché le domande sul senso dell'esistere sull'origine e la fine non sono domande che hanno risposta infatti molto spesso dalla maggior parte delle persone non voglio essere così cattivo pessimista ma molto spesso vengono considerate oziose una domanda a cui non c'è risposta razionale possibile tanto vale non farsela non ha senso farsela e invece il percorso spirituale il percorso filosofico dicono che sono proprio quelle le domande che bisogna farsi perché non hanno una risposta verbalizzabile ma perché sono le domande che mettono in moto un certo tipo di atteggiamento esistenziale che sono le domande che trasformano la vita e la risposta è il modo in cui noi viviamo tutta la nostra vita che sia di 25 di 50 o di 90 anni quella è la risposta tutte le altre domande quelle che possono avere una risposta formulabile a parole non è che non continuo ma non sono così essenziali e sono per così dire domande preparatorie per quelle vere domande a cui possiamo corrispondere soltanto giorno per giorno soltanto vivendo sapendo che poi ogni giorno la risposta che noi diamo con i nostri atti può essere diversa dal giorno prima perché ci sono giorni in cui come dice qui Dogen ruggiamo come un leone e ci sono giorni in cui invece esaliamo respiriteli ci sono giorni in cui ci sentiamo forti e giorni in cui siamo così deboli che non vorremmo neanche dover respirare e sono queste però le risposte che continuamente dobbiamo cercare di dare a queste domande e mantenere in vita la domanda è più importante che cercare la risposta che tacita la domanda questa è la cosa anche più difficile perché invece la risposta che tacita la domanda e che molto spesso le religioni tendono a dare o presumono di poter dare o danno l'illusione di poter dare quelle risposte che tacitano le domande in realtà diventano dei piccoli santini che appunto bloccano il percorso e che non fanno accedere ad una dimensione più ampia ma che invece restringono l'orizzonte anche se paradossalmente sembrano rassicurare perché uno crede avere finalmente in tasca e queste risposte sono un po' i tanti vitelli d'oro delle nostre esistenze sono i dogmi presi come risposte finali se noi riuscissimo invece a prendere i dogmi deriva dogma dal greco docheo che significa apparire qualcosa che si mostra qualcosa che si dà qualcosa anche di pubblico tra l'altro koan non ce l'ho mai pensato koan editto pubblico potrebbe essere un modo per tradurre dogma ha un senso molto diverso ma per dire il dogma non è non dovrebbe essere io credo visto come qualcosa di cristallizzato ma come qualcosa appunto di pubblico che appare che si dà che si mostra che si offre che può diventare un gradino su cui mettere il piede per continuare a scalare però quella scala se invece io a quel gradino mi ci aggrappo perdo completamente di vista la funzione che quel gradino ha e cioè di farmi compiere dei passi e come dice appunto la metafora buddista la scala serve per compiere un percorso come la zattera serve per traghettare un fiume ma poi non devo aggrapparmi alla zattera devo continuare a camminare a procedere sull'altra riva allora qui la domanda che pone il patriarca a Nangaku è questo che cos'è che viene così tu che vieni così che mi fai ti fai incontro a me chi sei da dove vieni come sei come ti chiami anche il problema del nome che abita molto la tradizione ebraica qual è il tuo vero nome anche forse si potrebbe tradurre qual è il nome o come dicono i buddhisti qual è il volto che avevi prima di nascere risposta logica beh domanda insensata prima di nascere ovviamente non avevo volto invece è proprio lì che bisogna sostare è proprio lì che bisogna cercare questa eccedenza rispetto all'ambito della logica Nangaku sul momento non rispose ma non dimenticò più la domanda potremmo fermarci qui già qui sarebbe ricco e pieno il racconto ma prosegue dice restò otto anni presso il patriarca continuando la propria vita di pratica nel monastero e un giorno il dialogo riprese belli questi dialoghi che si sviluppano disse quando sono giunto qui la prima volta mi hai chiesto che cosa è che viene così ora vorrei dirti come lo comprendo il patriarca chiese come lo comprendi Nangaku disse se indico una cosa non colpisco il bersaglio anche se so dare delle spiegazioni il patriarca insistette ma allora esistono pratiche di sveglio Nangaku disse esistono ma non li dobbiamo contaminare il patriarca allora esclamò non contaminare io davvero sono questo tu davvero sei questo e così sono i Buddha e i patriarchi del passato anche qui potremmo stare giorni settimane a provare a dipanare l'intensità di questo scambio e tra l'altro una cosa su cui vale la pena soffermarsi un attimo è anche pensare che questo scambio può avere per noi qui ed ora un senso nuovo che non può esaurire mai tutti i sensi che questo scambio ha e che in quel momento se si è dato storicamente un momento in cui i due si sono incontrati quelle parole avranno avuto per loro in quel momento un senso che non avrà mai più per nessun altro perché ed è giusto così ed è giusto che in quel momento solo a loro fosse aperta una possibilità così come in questo momento a noi è aperta una possibilità che mi verrebbe da dire né a Eno né a Nangaku era data in quel momento come dire ogni volta è la prima volta ogni volta che ci sediamo in Zazen è la prima e l'ultima volta e non c'è stato nessuno che ha fatto Zazen come noi in quel momento lì noi siamo sempre abituati a pensare anche delle scale di valore beh un grande maestro lo farà meglio sarà più concentrato avrà meno male un grande santo riuscirà a pregare molto meglio di noi e invece tutti questi discorsi secondo me vanno anche nella direzione di dire ogni volta è assoluta non nel senso che è slegata da tutto ciò che la precede che la segue ma che in quel momento in modo intensivo si concentra tutto il mistero della vita non di più non di meno non è che un pittore come Van Gogh come Monet quando dipinge è più addentro il mistero della vita dell'ultimo dell'imbrattatele che però onestamente sinceramente cerca di tirare una linea il peggiore ma sincero artista è dentro la pittura tanto quanto il più grande pittore e quindi in questo momento anche noi che siamo magari distratti che abbiamo mille altri pensieri che vorremmo riuscire a trovare parole migliori siamo coinvolti in un processo autentico siamo natura autentica anche quando facciamo fatica a trovare il bandolo della matassa quindi adesso non mi lancio in tanti commenti però anche qui da un lato Nangaku quando dice se indica una cosa non colpisco il bersaglio anche se so dare delle spiegazioni sembra voler dire se io anche ti dicessi chi è questo che viene se io anche per provarsi a definire che cos'è la mia essenza che cos'è la natura di Buddha fallirei il bersaglio perché pretenderei che delle parole potessero esaurire ciò che è inesauribile e il maestro gli dice sì ma allora esistono pratiche il risveglio come dire ho capito che hai capito ho capito che ti rendi conto che le parole non esauriscono ciò che è inesauribile ma attenzione che questa non diventi una scappatoia che questo non diventi un trucchetto per cui ogni volta che ti trovi a dover fare i conti con una testimonianza tu ti assenti tu faccia un passo indietro allora ma esistono o non esistono la pratica il risveglio e Nangaku dice esistono ma non li dobbiamo contaminare anche qui forse uno dei modi per intendere questo è io ti dico a parole che esistono perché la parola funziona così perché non devo attaccarmi alla negazione della parola tanto quanto non devo attaccarmi alla parola stessa se io ti dico esistono e basta mi attacco alla parola pretendendo che la parola possa dire l'ultima cosa possa esaurire la verità ma se ti dicessi ah no non esistono sono al di qua o al di là della possibilità di nominarli e basta punto allora cadrei nell'eccesso opposto nell'attaccamento alla non parola chiamiamolo così allora devo sapere capire come usare una delle virtù buddiste è quella della equanimità devo sapere essere equanime esistono ma non le dobbiamo contaminare uso la parola ma non mi attacco alla parola al punto tale da pensare che possa esaurire appunto la realtà la totalità non contaminare io davvero sono questo tu davvero sei questo e così sono i Buddha e i patriarchi del passato ecco qui l'esclamazione originaria potremmo dire quel fondo a partire da cui anche poi le domande si consolidano io sono questo tu sei questo e io sono questo proprio in virtù del fatto che tu sei questo che io sono io perché tu sei tu e tu sei tu perché io sono io c'è questo continuo scambio questa apertura all'alterità all'incontro in un certo senso la domanda chi è questo che viene come dicevo prima è anche una domanda riflessiva tu in quanto sei qualcuno che sta venendo da me aiutami a dirmi chi sono io è anche una domanda questa questa domanda è anche una domanda appunto a se stessi è anche una domanda potremmo dire di collaborazione una richiesta di aiuto senza di te io non sono grazie a te io so chi sono io ma grazie a me tu puoi sapere chi sei tu e io sono io e tu sei tu e anche qui c'è la famosa frase biblica in ebraico io sono colui che sono io sono colui che sarò qui è difficile perché l'ebraico non distingue nettamente se è un presente se è un futuro se è un singolare se è un plurale questa indefinibilità di colui che è l'origine la condizione di ogni definibilità e di ogni definizione io sono colui che sono io sono io tu sei tu sono anche un modo per dire io mi posso identificare con varie figure devo identificarmi con un volto particolare con una professione con una serie di legami affettivi di relazioni ma tutte queste identificazioni non esauriscono quello che è quella che è la mia identità profonda quello che è il nome che solo Dio conosce come si dice in alcune tradizioni appunto c'è un nome che è ignoto ed è il nome di tutti i nomi io non posso dire analiticamente chi sono io perché sarebbe un processo infinito sono innumerevoli le dimensioni che mi compongono perché virtualmente è come una pietra che cade nell'acqua che si espande in cerchi concentrici di onde e allora quello che posso esprimere la parola è io sono io la tautologia massima tautologia è un'espressione che dice sempre la verità perché non aggiunge nulla attraverso il predicato al soggetto che vuole definire il verde è il verde un triangolo ha tre lati queste sono tautologie io sono io tu sei tu ma in questa tautologia che spezza il circuito logico che pretende di definire a parole l'indefinibile sta proprio come dire intensificamente in modo intensivo la totalità irriducibile dell'uno e dell'altro e dell'uno in relazione all'altro quindi questo che cosa è che viene così per Dogen è la domanda che mette in movimento la ricerca della verità è questo incontro con l'altro che mette in moto la ricerca della verità in un certo senso non la pone in questi termini ma anche la filosofia per Platone nasce da questo nasce dal dialogo dall'incontro dia logos logos che deriva leggein che significa raccogliere comprendere tenere insieme e dia differenza distanza separazione non c'è dialogo se non c'è al tempo stesso una distinzione un'alterità e un raccogliere un tenere insieme un incontrarsi è detto anche prosegue Dogen il tutto che vive gli esseri senzienti la molteplicità delle forme di vita la moltitudine delle varie specie di esseri dire ogni cosa che è è dire il tutto che vive è dire la molteplicità delle esistenze quindi ogni cosa che è è natura autentica qui lui continua a usare un po' come quando nei Vangeli Gesù cita i versetti della Bibbia all'interno dei suoi discorsi qui Dogen usa passi del sutra componendoli in una sorta di suo discorso originale ogni cosa che è una per una dice esprime manifesta il tutto che vive ogni cosa ogni singola gemma di questo bonsai sembra una cosa totalmente insignificante cos'è nell'economia del cosmo una gemma un semino un granello di polvere ebbene questo semino questo granello è natura di Buddha totalmente integralmente pienamente se io riuscissi a sentire con tutto il mio essere questa verità allora non avrei più bisogno di cercare risposte metafisiche non avrei più la tensione o la tendenza a distruggere l'altro perché non riesco a contenere in me le spinte distruttive e qui è proprio una metanoia una conversione dello sguardo vedere le cose in modo diverso ci fa agire diversamente ci trasforma nelle nostre scelte etiche questa è anche un po' la scommessa sia buddista sia di una buona parte del pensiero occidentale vedere le cose diversamente significa trasformare il nostro modo di comportarci vuol dire non scindere la dimensione conoscitiva da quella etico pratica mentre noi tante volte tendiamo a dire beh questo vale in teoria ma in pratica è un'altra cosa sì sì a parole questo lo so ma poi di fatto ecco è questo passaggio che invece la pratica buddista cerca di trasformare radicalmente e di tenere in unità io non so non ho colto non ho visto veramente come sono le cose se anche non le metto in pratica vuol dire che non devo ancora esercitare il mio sguardo vuol dire che la mia pratica è ancora una pratica che continua a convertirsi in realtà tutti continuiamo a convertirci siamo sempre in cammino di conversione non c'è mai un momento in cui diciamo bene adesso finalmente basta sono a posto è come se tutta la vita fosse questo esercizio di conversio di volgere lo sguardo per imparare ad abitare diversamente il mondo ma appunto ogni cosa che è dice il tutto che vive esprime la totalità nell'adesso della verità l'interno e l'esterno del tutto che vive è ogni cosa che è della natura autentica ciò non è solo trasmettere pelle carne ossa midollo ma è anche che tu diviene io che è pelle carne ossa midollo qui fa riferimento a un altro episodio della trasmissione del primo patriarca del buddismo zen bodhidharma che secondo la tradizione è vissuto viste nel sesto secolo dopo cristo e dall'india si trasferì in cina e anche qui secondo la leggenda in punto di morte chiama i suoi discepoli più dotati e chiede loro appunto in che modo avessero compreso l'insegnamento a seconda della risposta che questi quattro allievi danno a uno dice tu ricevi la mia pelle a un altro tu la mia carne a un altro tu la mia ossa e un altro tu il mio midollo anche qui la tradizione dice c'è una scala ascendente quello che aveva capito in modo superficiale riceve la pelle l'involucro esterno che ha capito un po' di più riceve la carne i muscoli chi ha approfondito di più le ossa e l'ultimo che non risponde a parole ma semplicemente si inchina ha colto l'essenziale cioè il midollo e qua invece di nuovo Dogen in queste due semplici righe dice non è solo che ci sia questa sequenza questa sorta di gradazione valoriabile ma tu è pelle è carne è ossa ed è midollo tutto insieme non è che la pelle sia meno importante del midollo non è che la mano sia meno importante del piede perché quando soffre il piede tutto il corpo soffre che qui metafore che troviamo in vari luoghi delle spiritualità nel mondo la pelle la carne le ossa e il midollo sono tutte natura autentica noi smettiamo di pensare sempre con queste categorie migliore peggiore più o meno realizzato ogni vita è testimonianza autentica della natura autentica sappi l'essere di ogni cosa che è fa ancora 5 minuti poi facciamo la pausa sappi l'essere che ogni cosa che è l'essere di ogni cosa che è non è l'essere di essere non essere qui piccola ioda linguistica essere di essere non essere esprime traduce questo u nu no u sono gli stessi caratteri che abbiamo incontrato prima più questa particella diciamo che è un po' il complemento di specificazione no l'essere può esserci anche qui non pensiamo all'essere come fondamento della tradizione un esserci determinato una presenza il vero essere di ogni cosa che è l'esserci la natura autentica delle cose non è l'esserci che appartiene a questa coppia che si determina contrapositivamente non è soltanto un essere un esserci una presenza come distinta come qualcosa di distinto da un'essenza perché altrimenti saremo ancora nella dicotomia saremo ancora nella scissione staremo ancora pensando in termini di pieno versus contro vuoto bene contro male realizzato contro non realizzato e invece l'organe dice tutto è in quanto tale non è che è migliore o peggiore dal punto di vista del suo elemento del suo esserci del suo accadere ogni cosa è natura autentica dal punto di vista dei significati che noi attribuiamo alle cose allora diciamo questo è migliore questo è peggiore questo è frutto di una tensione egoica questo invece è frutto di una capacità relazionale più ampia ma questi sono sempre significati che noi attribuiamo alle cose dal punto di vista dell'evento dell'accadere delle cose tutto è natura autentica dal punto di vista dei significati la bomba atomica è qualcosa di tragico di negativo mentre il microcredito di IUDUS è qualcosa di positivo è qualcosa che incentiva la vita ma dal punto di vista dell'evento questa è una cosa veramente estrema e difficile anche da accogliere perché significa proprio un totale ribaltamento delle note categorie con la cui siamo abituati dal punto di vista dell'evento dell'accadere del e-venire cioè del venire fuori la bomba atomica è parte del possiamo dire dell'universo del mondo della natura autentica della dimensione insondabile del mistero dell'esistere quindi diventa il superamento della dualità praticamente infatti c'è un termine che poi ricorre che è tipico del mondo buddista che in giapponese si scrive così è FUNI o FUJI che significa non due a-dualità advaita in sanscrito ad-ve due non due e ne vuol dire uno la a-dualità è né uno né due anche qui la logica dice se non è uno allora sarà due o sarà più di due invece advaita FUNI vuol dire né uno né due ma uno in relazione a due e due in relazione a uno da un aspetto da una parte dal punto di vista dell'evento dell'accadere tutto è uno non c'è discriminazione tutto è natura di vita dal punto di vista della dualità dei significati che è giusto accoggere non è che allora io devo solo pensare al punto di vista dell'evento tutto va bene no noi viviamo anche nel mondo siamo parte del mondo ci dobbiamo battere sforzare anche perché questa è la nostra natura non nega questo dove non si nega questo nel mundismo ma per poterci per poter scusate se continuo a usare queste metafore passando da se dobbiamo combattere la buona battaglia come scrive San Paolo dobbiamo saperci radicare nel mondo saper usare i significati e quindi anche abitare i dualismi che si intessono nelle nostre vite e saper dire no questo non va bene non so lavoro minorile no non dobbiamo dire vai tanto è natura di butta quindi va bene no ci sono dei no che dobbiamo dire ma possiamo dire questi no se sappiamo anche avere l'intuizione se sappiamo incarnare questa dimensione che da un punto di vista ultimativo la verità ultimativa para Marta Satya in un saspetto tutto è divino tutto è in relazione dire che tutto è bene questa è una definizione mistica non vuol dire che ogni cosa va bene vuol dire che il tutto nel suo insieme è espressione è manifestazione di una dimensione fondamentalmente aperta insondabile e appunto la dimensione di fede del cristianesimo e anche del buddismo scommettono sulla dimensione gioiosa positiva di questa natura autentica ma ciò non toglie che quando ci radichiamo nel mondo e quando ci impegniamo storicamente eticamente allora dobbiamo anche saper pesare e giustamente discriminare ma la discriminazione non è l'elemento ultimativo è come dire il nostro modo di operare qui ed ora sapendo che siamo sempre accolti da una dimensione più ampia proprio una domanda per esempio questa bomba atomica quindi questo va di quale è il male però può essere che nella bomba atomica ci sono anche fenomeni come il giocamento razzista o l'idea della genetica di un uomo che produce questa storia di provetta quelle sono figure del mare storicamente determinate assolutamente uniche che quasi non c'è che fanno a scardinare comunque non sono inquadrati dentro questo tipo credo che non potesse neanche immaginare che non potesse un giorno arrivare a produrre o cadavere in sé come i capis o l'uomo in protesta sino in struttura del mare che ci stingono a dove pensare il tutto noi oggi storicamente in modo ancora diverso perché in effetti c'è una cosa che resiste a dire il campo di concentramento che comunque c'è spesso in protesta rientrano in questa armonia che forse non è un'armonia che vale per tutti i tempi in modo uguale che in modo di aumentare un nuovo conquistarsi che quindi dobbiamo potesse neanche immaginare la bomba tonica che a cui se ne fosse dalle parti certe perché magari no non è andato anche a partire di questo tipo di pensiero anche il contrasto con l'avvenenare oggi magari si può in modo diverso sì sicuramente era anche venuto fuori mi pare uno o due volte fa avevo citato il breve testo di Hans Jonas sul concetto di Dio dopo Auschwitz per dire ci sono degli eventi storici che impongono anche un cambiamento una revisione dei concetti filosofici o religiosi tradizionali che non possono essere applicati indifferentemente in ogni tempo in ogni luogo perché ci sono delle evenienze storiche che appunto ci richiedono ci portano a dover anche riconsiderare quello che la tradizione ci ha dato in eredità e io sono convinto di questo ed è anche uno dei problemi che il buddismo per esempio così proteso anche verso questa dimensione ultratemporale talvolta rischia di fomentare cioè in fondo è talmente più importante la dimensione dell'illuminazione che è lì fuori del tempo che ciò che sta nel tempo rischia di essere trascurato mentre altri percorsi tendono magari invece a essere molto più attenti anche a questi mutamenti storici forse anche già avevo citato un episodio di uno scambio con un pensatore giapponese quando parlavamo del coinvolgimento dei monaci zen nel militarismo giapponese negli anni 30 nell'invasione della Cina gli stupori di Nanchino e questi monaci appunto imbarciavano i fucili dicendo ma tanto questo è il dispiegarsi della natura di Buddha e va bene va bene e il pensatore giapponese diceva questo è proprio l'errore quei monaci non erano filosofi nel senso che non pensavano la storia questo è un grande punto se vogliamo anche che il pensiero occidentale ha saputo segnare nel bene e nel male perché non solo nel bene però i grandi pensatori occidentali hanno cercato proprio di pensare la storia e questo anche nel pensiero indiano invece la storia è abbastanza assente non è importante non è così importante quindi sicuramente è vero mi verrebbe da dire già però al tempo di Dogen ci saranno stati sicuramente degli episodi anche senza arrivare ai campi di concentramento la storia assolutamente l'epoca si chiamava l'epoca delle guerre senti non è come l'idea di produrre l'uomo si improvvolta non è come cioè l'idea che basta schiacciare un postone e fare una cosa che è responsabile è una figura del male in questo senso diversa dalle guerre tradizionali come dall'assassino e dallo stupro cioè questa cosa ci fa sempre stare capisco che per il principio del male l'uomo possa non so nessuno giudicare però il punto è che di fronte a fenomeni della bomba atomica non si fa di giudicare nessuno come anche la scettia che è l'idea si quindi non è questione di giudizio morale è il problema della tecnica si 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 arriva a un punto tale per cui un progresso uno sviluppo tecnologico acefalo senza una testa che lo pensa produce delle figure del male che non si riescono più a inquadrare all'interno delle categorie tradizionali etiche o ontologiche e questo è sicuramente una provocazione per ogni pensiero per ogni tipo di spiritualità questo ne sono convinto ed è per questo che noi dobbiamo continuamente rileggere i testi mettendoli alla prova della contemporaneità e anche ritradurli vuol dire anche reinterrogarci sul modo in cui possono reggere alla prova del che cosa vuol dire oggi il rapporto vita-morte quando possiamo tenere in animazione un cadavere o quasi un organismo in stato vegetativo persistente per 19 anni è vita o è morte questo è un problema che Dogen non aveva mai potuto porsi e neanche il diritto canonico della teologia cristiana medievale e sono problemi che invece oggi ci impongono anche di ripensare la nozione di vita e la nozione di morte quindi questo sicuramente è importante io direi anche un'altra cosa se posso io penso per quanto conosco che Dogen è più è più profondo di quello che è la nozione comune del buddismo in un certo senso se esiste un buddismo come un patrimonio di modo di vedere eccetera Dogen spunta oltre e in questo testo qua compare nella seconda parte poi se ne si fa vorrei farlo notare ma là dove lui dice appunto che il perfetto è cambiamento lui ha intuito che la critica è parte della perfezione come diciamo la la quella in medesimazione che è l'esserci no la critica la critica nel mondo orientale non è cresciuta così non è che non c'è per verità perché se è cosa vera deve esserci dappertutto anche proprio come espressione storica ma non è il carisma dell'oriente leggevo un libro ultimamente su quello che hanno fatto i medici i scienziati medici giapponesi durante prima dell'ultima guerra dal 32 al 45 hanno tagliato vivi 42 e le hanno anche registrate perché non lo so molto precise 41.000 prigionieri di guerra dopo averci fatto crescere nel fegato un fracco di batteri per le bombe batteriche e quindi questi prigionieri erano vivai di poi siccome se il corpo muore e anche il batterio si indebolisce li squartavano vivi li prendevano e poi li bruciavano hanno fatto 20.000 quando c'è stato tentato questo processo a questo episodio nel 1994 mi pare che purtroppo non è andato avanti loro hanno detto semplicemente i 103 medici che sono stati ritrovati hanno detto in guerra si agisce così e basta non abbiamo niente da ritirare questa capacità di essere tutti in una cosa col pericolo per diventare quella cosa lì è interdipendente con il tutto noi tante volte ci perdiamo nell'interdipendenza facciamo una politica italiana che è un continuo brontolare e la difficoltà che abbiamo invece poi di concretizzare di medesimarci in una forma perché l'idea l'idealismo che ci abbiamo nella testa non ci lascia poi incarnarci nessuna quindi rimaniamo quindi a me pare che anche questo corso che noi facciamo è molto interessante nel cogliere che cosa di particolare ha maturato il buddismo l'oriente ma non si esaurisse in una diciamo così un interesse di conoscenza storica ma si cerca di vivere questo momento in cui questi patrimoni circolano e quindi ricombia a me pare che per una mia impressione che quello che lui dice ho sentito vari tra l'altro ho vissuto vari anni con i monaci zen ho sentito varie volte parlare di queste tematiche anche di questo qua proprio da monaci zen però il modo con cui li coglie Marcello si vede che Marcello ha un'altra dimensione dentro che è la dimensione occidentale quindi è un bene vicendevole che ci facciamo dato che questa è la nostra epoca il nostro oggi e questo è diventato possibile quindi mentre così si 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 conosce contemporaneamente appunto si accorge che lì dove siamo arrivati su questa bella vetta così panoramica poi subito si si veda via no? ecco però forse è proprio una cosa bella del nostro momento storico questo no? anche parlavi dei dogmi no? è un bel momento questo per liberare la chiesa cattolica dal capire che il dogma è in un momento in cui si deve prendere questa strada o quell'altra e siccome crediamo talmente che dobbiamo procedere assieme chi ha il ruolo di dire beh decidiamo decide andiamo per questa strada Lutero diceva che i sacramenti non valgono non hanno senso e la chiesa cattolica ha detto prendiamo questi sette sacramenti e ha detto che sono sette eccetera per farci partire lì però procedendo oltre ci accorgiamo che quella definizione fossilizzata ci toglie la vita però ci voleva in quel momento un impulso per procedere no? quindi il dogma è una una decisione presa sul momento per andare avanti ma non per portalarcelo in certo senso dietro no? per cui anche tanto in definizione di Dio così oggi non le sentiamo più vere c'è una pausa certo proseguendo nella lettura del testo assaltiamo un po' di righe volevo sottolineare a pagina 32 verso la fine la colonna sinistra Dogen scrive prima di ribadire che ogni cosa che c'è che è è tutto che vive dice proprio il mio cuore ordinario questo è la via cinque righe dalla fine anche questa è una citazione da un maestro precedente maestro Tozan però mi pare importante segnalarla perché ribadisce l'idea che la via il Tao in cinese la via buddista il sentiero da percorrere non è qualcosa di distinto o di distante dall'ordinarietà dalla normalità non dobbiamo aspirare costantemente a qualcosa che trascende la nostra normalità come se noi fossimo sempre legati ad una situazione di imperfezione da cui ci dobbiamo affrancare no il vero affrancamento è saper stare anche nella nostra ordinarietà anche nella nostra imperfezione questo nostro cuore che abbiamo questa nostra mente che abbiamo queste nostre qualità più o meno acute che da una parte magari sono migliori da un'altra sono peggiori questo nostro essere così come siamo è espressione della natura di Buddha e anche qui non significa allora non fare nulla per sforzarsi di smussare i lati più spigolosi del nostro carattere ma l'idea è che accettando l'essere così come si è chi è questo che viene così che siamo noi a partire da questo accogliere allora si inizia anche a trasformarsi sapendo accettare i limiti quegli stessi limiti iniziano piano piano a sciogliersi questo è un po' il gioco paradossale quanto più mi sforzo di distruggere i limiti tanto più essi si irrigidiscono si irrobustiscono quanto più invece lascio accadere e lascio cadere da Tsuraku lascio cadere quei limiti come i pensieri che continuano a presentarsi alla mente in Zazen allora quei limiti piano piano si smussano non è detto che non ci viene detto che verranno cancellati completamente ma sapremo abitare con essi in modo diverso e anche questa è l'esperienza di Zazen quanto più io mi sforzo di cacciare via i pensieri tanto più questi si fanno forti e si ripresentano quando invece li accolgo e piano piano li lascio cadere è come uno stagno che si acquieta e la polvere si deposita sul fondo se io continuo ad agitare le acque sperando pensando che così la sabbia in sospensione se ne vada l'acqua non diventa mai limpida continua ad essere torbida se invece accetto che l'acqua sia torbida accolgo quell'acqua in quanto acqua torbida e non pretendendo che l'acqua torbida sia improvvisamente acqua limpida piano piano l'acqua si acquieta e la sabbia scende e si deposita quindi in quel momento anche qui c'è una sorta di sospensione di riterazione dell'azione noi siamo sempre abituati a pensare che ci deve essere un surplus di volontà di ego un fare di più per ottenere un effetto qua ci viene detto l'effetto massimo si ottiene quando tu stacchi il pedale stacchi il piede all'acceleratore quando tu lasci fluire con le cose questo lasciare fluire non è passività non è in azione non è fatalismo è la massima capacità invece di efficienza di efficacia è quella che è data dalla contemplazione che diventa però azione anche qui non c'è dualismo tra contemplazione e azione non c'è neanche una dinamica di causa ed effetto se io contemplo allora poi miglioro no io mentre contemplo sto agendo quando sto agendo sto contemplando se l'azione è vera azione è anche contemplazione se la contemplazione è vera contemplazione è già azione saltiamo ancora qualche parte all'inizio del paragrafo 15 a pagina 69 Dogen ripropone un altro koan un altro tra i più famosi koan della tradizione zen un monaco chiede al grande maestro Joshu Shinsai nel cucciolo c'è o non c'è natura autentica molto spesso lo si trova citato una tradizione più utilizzata in passato un cane ha o non ha la natura di Buddha e anche qui giustamente all'inizio del paragrafo 15 pagina 69 prima della 70 chiariamo anzitutto il vero movente di questa domanda dicendo cucciolo si intende il cane in genere la domanda non è per sapere se nel cane c'è natura autentica oppure non c'è e a noi invece sembrerebbe proprio così se uno chiede c'è o non c'è vuol dire che vuole sapere se c'è o non c'è invece Dogen dice no non è questo il vero movente la domanda è per verificare se un uomo ben temprato nella via sta o no sempre imparando la via è risaputo che nessuno ama imbattersi anche solo per sbaglio in situazioni pericolose ciò nonostante quel monaco aveva il vizio di trattare il suo maestro che praticava la via da 30 anni come un santo solo per metà qui c'è un po' della tipica ironia anche zen trattare fare delle domande un po' pericolose o anche impertinenti a un maestro vuol dire scherzare col fuoco poi i maestri zen ogni tanto rispondono con una bastonata non solo certe volte certe volte tagliano il dito no no ma questo effettivamente era uno dei mezzi che venivano impiegati ma che poteva di nuovo diventare fonte di attaccamento perché se la bastonata viene replicata come un dogma e se ogni volta che mi fanno una domanda io rispondo come il maestro che ha tirato un bastone allora io non sono più nella verità non sto più testimoniando la verità quindi di volta in volta bisogna sapere corrispondere corrispondere alla situazione e non sempre a domanda uguale si deve rispondere con risposta uguale e questa è un'altra delle cose che scombina le carte quando noi ci aspetteremmo una equivalenza di situazione questo lo sanno anche i genitori quando talvolta ha ai figli diversi che fanno le stesse richieste e rispondono in modo diverso talvolta magari lo fanno sbagliando talvolta invece lo fanno con saggezza perché alla stessa domanda posta da un'altra persona bisogna rispondere con un'altra risposta e i figli che non capiscono allora dicono la parola figlio il prodigo in un certo senso è un modo di rispondere diversamente a due domande che sono due domande di figli e in quanto domande di figli sono domande autentiche e identiche ma a cui bisogna corrispondere diversamente per generare testimonianza della natura autentica a questa domanda nel cucciolo c'è o non c'è natura autentica Joshua risponde no altra traduzione spinosa perché in giapponese la risposta è nulla assenza mancanza che in alcuni casi viene lasciata non tradotta un cane ha la natura di Buddha è natura di Buddha mu perché talvolta si cerca di mostrare come in questo mu non ci sia soltanto il no ma ci sia anche appunto un uscire dal si e dal no qui però giustamente poi la scelta è caduta su questo no proprio perché poi Dogen continua il discorso la prima risposta che dà il maestro alla domanda è no e già è una risposta sorprendente ma come non è tutto natura di Buddha e perché allora il cane non dovrebbe essere natura di Buddha o non dovrebbe avere natura di Buddha se hai ascoltato questa testimonianza cerca ora di capire dove conduce il filo del discorso dove stiamo andando a parare anche il no che la natura autentica stessa professa è così anche il no che il cuccio lo stesso professa e testimonia è così anche il no che gli spettatori vociferano e testimoniano è così in quel no deve proprio esserci un po' del sole che consuma le pietre è un'espressione molto poetica Dogen ha queste frasi che dopo tanta asperità concettuale dicono proprio l'attenzione anche alla quotidianità anche in questo no così rude così forte che sembra negare tutto quello che era stato appena detto che sembra negare la dimensione di illuminazione di risveglio presente in ogni cosa c'è in realtà l'illuminazione il monaco aggiunge il tutto è il tutto che vive ogni cosa è natura autentica come mai il cucciolo no appunto il tutto è il tutto che vive è niente è assenza non c'è non esserci il tutto è il tutto che vive no non questo è niente dobbiamo intenderlo sempre non all'occidentale non è la negazione di un'esistenza ma è il non come sfondo anche indistinto indifferenziato non attualizzato il sì è l'attuarsi il venire all'essere alla presenza il no non è la negazione della presenza è lo sfondo non attualizzato che si distingue dalla presenza definita quindi anche il niente il no il non è parte dell'illuminazione questo è il principio fondamentale quando dico è parte dell'illuminazione non voglio dire che è un frammento è una parte diversa dalle altre ma è parte nel senso che fa parte di è ricompreso nell'illuminazione allora anche la natura autentica è niente è no è assenza è non e anche il cucciolo è niente che cosa comporta questo principio per quale mai motivo la natura autentica del cucciolo deve essere negata e Joshua risponde per il fatto che la mente la fa essere un'altra cosa il senso della risposta sta qui il fare una cosa essere un'altra cosa altro non è che il fare della mente cioè che cosa fa la mente e perché Joshua dice no io la leggerei così il problema è che se noi iniziamo a dire il cane è natura di Buddha sì possiamo fare questa equivalenza allora iniziamo a sottomettere la natura autentica al gioco logico della mente dell'intelletto che equipara una cosa ad un'altra che discrimina prima e poi cerca di tenere insieme cerca di unire che separa e poi ha bisogno di connettere da una parte c'è il cucciolo e dall'altra c'è la natura autentica ed è proprio quello che non bisogna fare ecco perché dice no il cucciolo non è natura autentica perché vi ricordate prima io sono questo tu sei questo il cucciolo è cucciolo natura autentica è natura autentica se invece noi continuiamo ad essere preda del giochetto logico per cui A uguale a B per cui solo Gesù è Cristo usiamo anche questi termini temerari allora tutto quello che non è Gesù come quell'unico essere vissuto 33 o 36 anni non è Cristo e invece qua potremmo dire no certo nella logica se A è uguale a B B è uguale ad A se tutto è natura di Buddha allora anche il cucciolo è natura di Buddha invece qui stiamo scardinando questa logica Gesù è Cristo ma Cristo non è solo Gesù potremmo dire Cristo è Gesù risorto e Gesù risorto è una dimensione altra da quella individualità umana ecco perché tutto è anche natura cristica ecco perché Buddha è natura cristica o Krishna o qualunque dimensione il bonsai o il semino potremmo dire che Cristo è natura di Buddha io direi di sì se a patto che noi non ci attaccassimo talmente tanto alle parole da volerle usare come etichette definite e definitive e questo è il grande problema se noi usiamo le parole come veicolo per un'esperienza di spirito per un'esperienza diversa allora usiamole usiamo anche questi termini non dobbiamo essere così timorosi di forzare quello che la tradizione tendenzialmente ha tenuto separato se usciamo a essere così liberi da dire che Dio è natura diciamolo se siamo così liberi come Eckhart da dire prego il Dio che mi liberi da Dio diciamolo se però questo diventa una nuova forma di idolatria o se questo non ci aiuta a intraprendere un certo tipo di esercizio spirituale di liberazione allora dobbiamo stare attenti cioè tutto secondo me si gioca nel modo in cui noi riusciamo anche a reagire e a interagire con le parole che usiamo perché le parole sono degli strumenti molto potenti anche nel momento in cui noi cerchiamo di sminuirne l'importanza diciamo beh in fondo non sono così importanti quindi le usiamo liberamente e lì si annida la trappola perché rischiamo di farci prendere una specie di frenesia di fregola che ci fa confondere tutto con tutto allora è giusto che invece si ritorni a dire no tutto non si può confondere con tutto questo è anche uno dei grandi problemi se vogliamo che ha portato Gesù in croce quando lui dice io sono il figlio di Dio era una bestemmia delle persone a cui lo diceva e lui invece diceva questo come dire dovete essere così liberi dovete sentirvi così liberi da sentirvi figli di Dio tutti o figlio dell'uomo che è un altro appellativo che si utilizzava questo può diventare bestemmia se noi siamo così attaccati alle parole da non capire che cosa sta transitando attraverso di esse e può diventare invece fonte di salvezza di liberazione se riusciamo a cogliere quello spirito che appunto passa però viceversa anche una libertà totale non consapevole può diventare fonte di sviamento sapete che nell'epoca contemporanea soprattutto adesso o meno agli anni 80 90 c'erano un sacco di correnti New Age Next Age che facevano un grande poturi di tutto un po' di cristianesimo un po' di buddismo un po' di induismo e ma anche con diciamo le migliori intenzioni cercare di trovare gli elementi considerati più importanti fondamentali delle grandi tradizioni per spremerne il succo il problema è che talvolta quasi sempre forse si rischia di confondere tutto e di non trovare il succo di nulla allora l'idea è che forse essendo fedeli alla propria dimensione cristiana o buddista si riesce a essere più universali che non pensando di essere universali confondendo tutte le cose e si diventa soltanto parziali l'avevo anche citato forse un'altra volta l'esempio di questo tipo rischio sempre di scadere sul melenso però non ne trovo altri è come quando ci si innamora di una persona e si dice io amo quella persona e l'amo con tutto me stesso e non pretendo che tutti amino quella persona come me quella persona che io amo ma posso capire che un'altra persona che ama la sua moglie il suo marito o la sua ragazza il suo compagno viva quella stessa esperienza d'amore con un'altra persona con la mia intensità e che sia nell'amore ecco di nuovo non possedere l'amore ma essere nell'amore con la stessa dimensione non ho bisogno di dire tu devi amare la persona che amo io perché solo questa è la vera esperienza d'amore quindi io non devo per forza dire tutti devono pensare alla dimensione del Buddha alla dimensione del Cristo per vivere una dimensione di pienezza dell'umano ma se io vado fino in fondo nel mio cammino di fede cristiano nella mia esperienza di cammino buddista allora secondo me incontro l'umanità molto più profondamente che se io pensassi di fare un puzzle o un vestito rattoppato con tante pezze poi a ognuno il compito di capire qual è il suo percorso Panikar diceva io sono al 100% cristiano al 100% hindu al 100% buddista e al 100% appartengo alla dimensione secolare e questo non vuol dire che era una strana entità 400% di queste cose ma vuol dire che queste identificazioni erano forme necessarie per nutrire la sua identità che era sempre al di là o al di qua di ogni identificazione particolare e se io penso che la mia identità mi debba distinguere debba essere un'identità esclusiva dell'alterità allora non sono forse tanto nella verità quanto quando penso che l'identità sia un'identità inclusiva dell'alterità e questo lo dice anche il Dalai Lama mi pare in diverse occasioni io non sono venuto in occidente a vedere cristiani diventate buddisti io cerco di dire a ciascuno sii veramente te stesso radicati nella tua dimensione e in quel modo lo incontrerai anche gli altri questo secondo me è anche il sentir transitare lo spirito lo spirito soffia dove vuole chi non è contro di noi è con noi sono tutte frasi che mi pare dicano la bellezza della pluralità l'importanza del sentire che non c'è nessuna figura che esaurisce la totalità dell'esperienza umana per un esprimese parlare di agnello non significa qualcosa di così importante come nel mondo medio orientale o mediterraneo a noi sentire parlare di vacche sacre non significa così tanto come sentire parlare invece di sacrificio del capro la tragedia è il canto del capro perché c'è tutta una tradizione che si incarna in noi anche se non l'abbiamo studiata non la sappiamo ma ci sono dei simboli che sono culturalmente determinati e se il divino se la natura di Buddha se la natura autentica transita ovunque non possiamo pensare che soltanto un simbolo ne esaurisca la totalità ma non dobbiamo neanche pensare di poterci affrancare così tanto dai simboli da non avere bisogno ciascuno di noi nella sua particolarità di doversi confrontare con dei riti con dei simboli e per qualcuno il pane e il vino consacrati saranno il simbolo fondamentale per qualcuno la vita monacale sarà il simbolo fondamentale dell'unione per qualcun altro sarà la vita sponsale per qualcuno sarà la vita di studio per qualcun altro sarà la vita sportiva o impegnata nella politica anche queste sono forme quindi va benissimo riuscire a connettere a far interagire espressioni diverse stiamo solo attenti a non confonderle al punto tale da perdere le specificità in una specie di melassa o di cocktail che non nutre veramente talvolta i cibi sono nutrienti quando si amalgamano talvolta i cibi sono nutrienti nella loro integrità dobbiamo mangiarli con la buccia la scorza e non sminuzzarli troppo anche qui è un esercizio di equanimità sapere pesare soppesare fermo perché sennò dopo non finiamo proprio più neanche questo test sono domande se questa logica in vista che in qualche modo nega i sindogini tradizionali in qualche modo pone nel tipo della logica scientifico razzanale possiamo intenderlo così se sia un ego che ha uguale B di uguale C e C uguale A in qualche modo un ego in fondo con le regole logiche che si regge una volta in modo interpretano anche le leggi sì a parte che anche qui adesso non vorrei farla troppo lunga però a parte che nella fisica meccanica quantistica certe leggi che valgono per la fisica dei grandi corpi già non si adattano più e quindi se io voglio misurare contemporaneamente la posizione e la velocità di una particella subatomica non lo posso fare perché interferisco con quel processo anche quando voglio misurare o cercare di monitorare dei corpi celesti che stanno a e ora infiniti a anni luce da noi in realtà io li sto guardando come erano anni secoli millenni fa quindi leggi normali della fisica che sono regolate da certe forme logiche sono in realtà molto limitate e secondo me questo tipo di logica come anche altre forme di logica se prendiamo la scienza della logica di Hegel sembra negare questi principi in realtà non è che vada contro li accetta ma dice valgono a certe condizioni in certi ambiti non è detto che valgano sempre quindi c'è come dire anche qui una complementarietà quando abbiamo bisogno di usare A uguale a B e quindi B è uguale a A usiamolo quando invece ci rendiamo conto che questo tipo di legge logica non ci aiuta a progredire ad ampliare la nostra visuale delle cose allora siamo così liberi da riuscire anche a liberarcene quindi è sempre una questione di attaccamento ecco perché il distacco in fondo è la trama costante di tutti questi discorsi il distacco appunto è saper gestire la distanza giusta di volta in volta io non devo negare nulla per abbracciare totalmente qualcosa altro ma devo saper soppesare equanimemente le condizioni nelle quali mi trovo il tipo di relazione nella quale sono poi involto quindi io non è che debba negare le leggi logiche di aristotele in nome di qualcosa che superandole appunto le cancella ma quando ho bisogno di quelle leggi uso quelle leggi quando ho bisogno di altre leggi uso altre leggi come la storiella zen dei due monaci che arrivano a un certo punto in cui un acquazzone ha spazzato via un ponte devono guardare un fiume e c'è una donna probabilmente una prostituta che è lì come loro uno dei due monaci la prende in braccio la aiuta a attraversare il fiume e poi la posa e se ne vanno dopo un po' l'altro monaco dice senti devo proprio dirtelo ma come hai potuto tu prendere in braccio quella donna sai che non è consentito sai che non dovresti perché ti contamini e l'altro dice io però l'ho presa in braccio e l'ho depositata tu te la stai ancora portando appresso ed è anche qui al di là della risposta è anche un modo per dire ci sono momenti in cui è giusto prendere in braccio una donna anche se secondo un certo tipo di leggi non lo dovrai fare e i Vangeli sono pieni di queste cose il Samaritano Gesù era il Vangelo domenica scorsa quello del Pozzo di Giacobbe quando mi trovo di fronte a delle situazioni non devo essere così legato appunto al dettato della legge o della logica ma devo saperle usare quindi senza negare ma abbracciando è come se io allargassi le mie braccia diventando capace di comprendere più realtà non meno non devo escludere una realtà per prenderne solo un'altra ma devo uscire a tenere insieme più vita e a pagina 72 è sempre Joshua che va avanti e che parla di questa dimensione della domanda la domanda è ciò che tiene in vita a pagina 72 si parla appunto della della dimensione dell'essere Buddha dell'essere natura autentica che è anche il cucciolo perché poi pagina 70 la stessa domanda rivolta a Joshua nel cucciolo c'è o non c'è natura autentica ha come risposta c'è e poi dice no poi dice sì allora com'è possibile questa ambivalenza a pagina 72 la quarta riga Joshua dice tu sai fare una cosa essere un'altra perciò profani tu dici che natura autentica è un'altra cosa della natura autentica cioè è un cane è un cucciolo e quindi in questo senso profani la tua logica sta attribuendo y a x l'unica cosa che si dovrebbe dire se volessimo essere rigorosi logicamente è natura autentica è natura autentica tautologia tu sai fare una cosa essere un'altra la mente la logica l'intelletto produce questa trasformazione attribuisce ad una cosa un'altra cosa a e b questa tendenza non può essere quella di trasformare una tua autentica c'è un'essere in sostanza visto che prima c'è il senso di nota il fatto che esisteva l'idevesia anche nel buddismo che tendeva ad trasformare quella tendenza di un'essere in sostanza che è vero che poi c'è un'ottimità in occidente anche era una tendenza giusto sì 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 giusta annotazione abbiamo avuto appunto bisogno due giorni però qui nel discorso che fa joshu c'è in mente anche il rischio la tendenza di reificare di sostanzializzare le cose e di aggrapparci sì la natura di buddha diventa qualcosa che può essere attribuito a qualcos'altro diventa qualcosa che rimane a cui ci si deve aggrappare e che quindi diventa assoluta assoluta sciolta incondizionata staccata da tutta la trasformazione che invece anch'essa subisce nel suo modularsi nella vita e nella realtà quindi dire sì dire no è anche un modo per sciogliere per evacuare liberarsi svuotando ogni idea che pretendesse di attribuire alla natura autentica questa sostanzialità forte questa sostanzialità rigida non ci si può attaccare nemmeno all'idea di natura autentica nemmeno all'idea che la natura autentica sia in tutte le cose abbiamo appena detto che è la più grande la massima la capitale affermazione del buddismo e dobbiamo subito aggiungere non attaccarti neanche a questa cosa perché altrimenti diventa dogma rigido diventa presunzione di comprensione totale diventa un pieno una sorta di idolo appunto oggetto di idolatria però la cosa interessante è che qui proprio questo discorso della profanazione cioè della visione illusoria dell'avvilimento della verità della scissione che fa essere e non essere può assumere un altro significato questa continua dogma è un'espressione diffusa e comune nel mondo da lunga data ma qui addirittura testimonianza in bocca a joshu in altre parole è dire so quindi profano io so so qual è la verità sono nella verità e proprio per questo profano mi viene in mente l'esempio di san francesco quando nella leggenda viene invitato a avere un rapporto sessuale con una che sembra essere un pochino l'immagine del diavolo tentatore per provocare la reazione allora se tu sei veramente santo riuscirai a resistere a questa tentazione e san francesco dice mi chiedi di peccare va bene peccherò insieme a te non si ritrae ma accetta profana per così dire il suo voto di castità in quel momento la donna dice allora ho capito e si converte in genere nel cristianesimo si finisce sempre per non fare sesso mentre in altre tradizioni c'è anche quella dimensione nel tantrismo per esempio sarebbe stato il contrario comunque al di là delle battute la cosa interessante è che talvolta accettare la profanazione è il modo di liberarsi dal peccato ma anche qui citavamo poco fa l'episodio del pozzo di Giacobbe Gesù che parla con la Samaritana in un certo senso compie una profanazione ma come tu proprio con loro ti vai a mescolare ma quando va a mangiare zaccheo dei pubblicani peccatori è un continuo di questo mescolarsi questo profanare e profanarsi rispetto a una certa idea di purezza e qui appunto so proprio perché so proprio perché ho capito perché incarno la la verità la natura autentica allora profano non nonostante il fatto che io abbia capito mi trovo nelle condizioni di profanare no so quindi profano l'espressione non può non suscitare dubbi in non pochi abbiamo appena detto che la parola entrare è di difficile comprensione ma qui quella stessa parola diviene superflua infatti anche se vuoi conoscere il monaco immortale fra i monaci puoi forse allontanarti da questo sacco di pelle l'uomo immortale chiunque tu pensi che sia di qualunque tempo tu voglia è forse mai altro dal sacco di pelle questo quindi profano non dipende senz'altro dal fatto di essere sacco di pelle come il fare entrare con forza nel sacco di pelle non dipende senz'altro da so quindi profano perché si conosce proprio per questo c'è l'esserci ineluttabile della conseguente profanazione sappi dunque questa conseguente profanazione copre e custodisce lo sforzo di ogni giorno verso il completo risveglio ma quindi scusa qui c'è la condanna della conoscenza c'è la condanna della conoscenza no perché c'è la condanna e sai e quindi profano ah cioè tu dici porca miseria siccome so allora mi tocca profanare no io direi il contrario la conoscenza mi permette di essere talmente libero che anche la profanazione anche questo mio essere così misero che continuamente pecca sbaglia offende anche quando non vuole o offende perché vuole perché ha dei momenti in cui è talmente meschino e cattivo che vuole pungere l'altro là dove sa che è più debole anche questa è natura autentica forse ti ricorda anche Pado l'unico incontro io credo che è veramente lo stesso messaggio del il serpente la creatura più astuta di Dio creatura di Dio quindi creatura di Dio dice a Deva no mangiate così diventate come Dio no è frutto dell'albero della conoscenza del vero del mare e doveva mangiarlo e Dio doveva proibirlo e poi doveva creare il serpente altrimenti non sarebbe l'avventura e poi Dio fa mettere i cherubini con la spagata invocata finché non ritornino nell'Eden e vadano avanti doveva conoscere l'Io altrimenti rimanavamo come la New Age in uno stato di innocente puerilità ma noi saremmo rimasti non saremmo non avremmo avuto accesso a quella dimensione che poi dopo è tutta l'avventura dell'esistenza potremmo rimanere nelle immobilità di una innocenza puerile primordiale idilliaca ecco quindi è proprio la scelta dall'idillio del rimanere innocenti oppure se procedere conoscere il bene e il male e conoscere il bene e il male tutti e due li conosci altrimenti non avresti conosci neanche il bene se rimanevi nella puerilità e io credo che è veramente lo stesso messaggio e penso di averlo scritto tante volte ogni qualvolta mi è dato che per me questo è il punto dove io mi sento veramente all'unisono con il buddismo perché sento che è all'unisono in forma differente dello stesso cammino che faccio come cristiano e perché Dio doveva crearci in modo tale da mandare suo figlio a soffrire sulla croce per alcune di quelle domande che non hanno risposte ma sono proprio quelle domande che poi dopo ci accorgiamo che stanno dicendo la nostra vera realtà mentre domande impostate differentemente che vogliono dare una risposta e mettere a posto ci accorgiamo che sono sterili no? Credo che è veramente la tentazione della conoscenza della tentazione di mangiare il frutto della conoscenza del bene del male rimanere nell'idilio innocente e puerile o accedere alla vita adulta con tutta questa sua lotta che comporta eccetera eccetera no? E quello che mi stupisce è che a estigare così è il serpente creatura di Dio che viene da Dio come lo stesso ordine Dio ha dato se lo mangiate morirete quindi anche credo anche l'accesso l'incamminarci nella via che poi comporta la morte se rimanere in uno stato di assolutezza oppure invece accedere a quel divenire che poi è la storia e con tutte le sue tribolazioni eccetera eccetera e contraddizioni però l'unica strada dove poi avrebbe potuto attuarsi l'esperienza della libertà l'innocente l'innocente non ha libertà chi non conosce chi non mangia il frutto della conoscenza del bene e del male non conosce la libertà io penso che Dogen qui veramente indica indica diciamo così ciò che quel brano della Genesi intende dire quindi per andare avanti bisogna disobbedere ah certamente beh i figli i figli crescono disobbedendo i genitori è la presenza del male che consente la libertà in definitiva però se di questo poi se ne fa ecco un'argomentazione qui la domanda di fondo ma chi sono io che adesso mi dico allora se è così adesso me le vado disobbedire a peccare no? ecco fare la domanda a se stesso ma allora cosa sono io non è cosa certo è che se io morivo a tre anni tutte le corbellerie fatte nella mia vita non le avrei fatte però neanche le cose positive con ramarico però io chiuderei questo testo perché altrimenti il proprio povero Eckhart oggi non ci fa sentire sì l'ultimo paragrafo a pagina 76 mi piace perché c'è un'ultima raccomandazione di Dogen anzi gli ultimi due fin da tempo immemorabile molti stolti credono nei poteri straordinari della consapevolezza e hanno fatto di questo la natura autentica ed è un tale uomo hanno fatto l'uomo originario ma che quell'uomo fa morire del ridere sta attento di non rotolarti nel fango con la scusa che vuoi salvare gli altri la natura autentica che devi sempre testimoniare è invece la siepe è il muro è la tegola è il ciotolo dici che vuoi progredire nella via chiediti sul serio come divenire ciò che dici così è natura autentica ho detto tutto in dettaglio tre teste otto braccia sono le figure messe a protezione dei tempi buddhisti avevano spesso questo aspetto tre teste che guardavano in direzioni diverse otto braccia che riuscivano a arginare il male in ogni modo ecco qui tra l'altro c'è anche un punto nei Vangeli apocrifi in cui si dice solleva una pietra lì c'è Cristo taglia un ramo lì trovi Gesù qui dove è la tua autentica la siepe il muro la tegola non c'è soltanto nei turiboli negli incensi o nei luoghi più reconditi dei tempi anzi c'è in ogni gesto non è che anche qui allora non ci sia per forza nei tempi e nelle chiese ma non è detto che ci sia in un modo privilegiato abbiamo bisogno di luoghi particolari per simboleggiare il nostro legame con l'invisibile con un certo tipo di testimonianza ma quei luoghi sono solo alcune testimonianze per ricordarci che è tutto luogo di natura autentica come i tori dello scintoismo quei portali che stanno spesso in mezzo alla natura o sulla riva del mare che aprono sulla natura e che da una parte e dall'altra c'è natura non sono necessariamente degli ingressi che danno verso un luogo chiuso ma di qua c'è natura di là c'è natura indicano una transizione un passaggio dalla natura alla natura allora vediamo almeno nel tempo che ci resta e poi decideremo se riprendere la volta prossima questo testo di Eckhart che è forse uno dei più belli e più profondi di tutte le cose scritte non solo da lui ma in generale nella spiritualità occidentale e anche da un punto di vista filosofico tra l'altro ci saranno autori come lo stesso Hegel che si rifaranno ai testi di Eckhart pensandoli da un punto di vista specificamente filosofico come tutti questi sermoni tedeschi abbiamo visto sono pronunciati in tedesco quindi non in latino non nella lingua colta dell'epoca ma nella lingua parlata dal popolo sono sermoni che Eckhart pronunciava o a gruppi di novizi o a suore quando celebrava la messa o anche talvolta ai contadini della sua diocesi di Erfurt partono questi sermoni da un versetto citato in latino che poi in genere Eckhart traduce da un versetto del Vangelo in questo caso è uno dei più famosi versetti tratti dalle beatitudini da capitolo 5 di Matteo beati poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli e inizia il sermone appunto con questa citazione qui Eckhart non dice nemmeno Gesù disse ma la beatitudine aprì la sua bocca di saggezza e disse beati sono i poveri nello spirito loro è il regno dei cieli tutti gli angeli e tutti i santi e tutto ciò che è nato deve tacere quando parla questa eterna sapienza del padre perché tutta la sapienza degli angeli e di tutte le creature è un puro nulla di fronte all'abisso senza fondo della sapienza di Dio e cosa ha detto questa sapienza ha detto che i poveri sono beati e parte qua con la sua elaborazione di questo versetto la povertà è di due tipi vi è una povertà esteriore che è molto buona è molto da lodare nell'uomo che la prende su di sé volontariamente attenzione non diciamo che siccome i poveri sono beati allora è giusto che tre miliardi di persone non abbiano non abbiano di che vivere o che appunto è giusto che restino in queste condizioni è molto buono è molto da lodare nell'uomo che la prende su di sé volontariamente per amore di nostro Signore Gesù Cristo perché egli stesso l'ha praticata sulla terra di questa povertà non voglio dire altro chiuso subito il capitolo su questa che è la prima forma la più evidente la più diffusa purtroppo perché non è spesso una povertà volontaria ma diciamo che è quella che è meno diffusa ma si può vivere a livelli diversi nella quotidianità c'è però un'altra povertà una povertà interiore che è da comprendere in quella parola di nostro Signore che dice beati sono i poveri nello spirito ora vi prego di essere poveri in tal modo per poter capire questo discorso perché ve lo dico nell'eterna verità non mi comprenderete se non vi renderete uguali a questa verità di cui ora vogliamo parlare come dire c'è la prima povertà quella esteriore quella che a cui ci si può esercitare e non è però la più importante è come dire quella è quasi una povertà seconda derivata rispetto a questa che è la vera povertà che è la povertà di spirito ma per capire questo discorso bisogna diventare questo discorso ecco qui in sintesi subito fare piazza pulita delle dicotomie posso capire ma non riesco a praticare no Eckhart dice capite solo se ci siete dentro solo se incarnate questo messaggio lo capirete man mano che procederete che lo starete diventando e comprensione e prassi sono legate anche nel buddismo prajna conoscenza sapienza saggezza e karuna amore compassionevole capacità di essere di farsi incontro farsi prossimi dell'altro possiamo anche tradurre così prajna e karuna vanno di pari passo non ci può essere vera sapienza senza amore compassionevole e non c'è amore compassionevole se non grazie a una sapienza perché altrimenti c'è intellettualismo astratto oppure c'è una seduzione che può diventare anche immorale se non è supportata da una sapienza alcune persone mi hanno chiesto che cosa sia la povertà in se stessa e che cosa un uomo povero ora vogliamo rispondere il vescovo alberto anche qui riferimento da autorità non particolarmente antiche perché parla di alberto magno che viveva nello stesso secolo il tredicesimo secolo proprio anziano di eccard dice che è un uomo povero quello che non può contentarsi di tutte le cose create da dio e questo è ben detto ma noi diciamo ancora meglio e prendiamo la povertà in un significato più alto è un uomo povero quello che niente vuole niente sa niente ha voglio parlare di questi tre punti e vi prego per amore di dio di comprendere se potete questa verità se poi non la comprendete non vi affliggete per questo perché io vi parlo di una verità tale che solo poche persone buone la comprenderanno anche qui è un invito a non perdersi d'animo e a non mortificarsi se non si riesce ad accedere se non si riesce ad incarnare come vedremo poi alla fine anche questa è povertà di spirito il fatto di non comprendere il fatto di non riuscire a sentire quello che ci viene detto che bisognerebbe a sentire io non lo sento mi devo dannare l'anima per questo no non preoccuparti sei anche tu già da sempre accolto nel regno sei anche tu da sempre nella natura autentica anche se non capisci anche se queste parole le suonano sterili non è detto che tutti abbiamo orecchi per comprendere in tutti i momenti della nostra vita e non è detto che tutte le parole siano fatte per toccare i nostri orecchi talvolta il nostro orecchio riesce ad ascoltare altri suoni che un altro orecchio non ode e quegli altri suoni faranno vibrare delle corde quindi non è detto che appunto un unico modo di esprimere la verità debba essere quello che va bene a tutti in primo luogo diciamo che è un uomo povero quello che niente vuole alcune persone non comprendono bene questo senso e si tratta di quelli che nella penitenza e nell'esercizio esteriore si tengono ben aggrappati al proprio io personale che ritengono importante Dio abbia misericordia perché questa gente sa davvero poco della verità divina queste persone sono chiamate sante ci sono anche dei santi che vengono chiamati così pur essendo attaccati al loro ego vengono chiamate sante a motivo dell'apparenza esteriore ma interiormente sono asili giacché non comprendono il senso proprio della verità divina esse dicono che è uomo povero quello che niente vuole ma lo interpretano così che l'uomo debba vivere senza mai compiere il proprio volere in niente e piuttosto sforzarsi di compiere la dolcissima volontà di Dio tali persone sono nel giusto perché la loro opinione è buona e perciò vogliamolo darle da questo punto di vista quello che dicono è giusto è corretto nella sua misericordia Dio doni loro il regno dei cieli ma io dico che nella verità divina che questi non sono uomini poveri né simili a poveri vengono stimati dalla gente che non conosce niente di meglio ma sono degli asini possono raggiungere il regno dei cieli per la loro buona intenzione cioè c'è anche gente che ha una buona intenzione ma magari pur animata dalle migliori intenzioni continua a combinarle in tutti i colori ma di quella povertà di cui ora voglio parlare non sanno nulla che cos'è allora un uomo povero che niente vuole io risponderei così finché l'uomo ha questo in sé che è suo volere voler compiere la dolcissima volontà di Dio un tale uomo non ha la povertà di cui vogliamo parlare infatti egli ha ancora un volere con cui vuol soddisfare la volontà di Dio e questa non è la vera povertà se l'uomo deve avere vera povertà deve essere così vuoto della propria volontà creata come lo era quando non esisteva io qui sento davvero una grandissima affinità con quell'idea del volto originario del volto prima che noi nascessimo il vuoto della propria volontà prima come lo era quando non esistevamo qui è anche il discorso che si applica alla tensione con cui spesso ci si siede in Zazen se io voglio che lo Zazen diventi pratica trasformativa per raggiungere l'illuminazione allora non serve a nulla come quando i monaci Zen dicono lo Zazen non serve a nulla e se non ti rendi conto che non serve a nulla allora veramente non servirà a nulla cioè finché noi crediamo di poter utilizzare come mezzo per altro finché noi proiettiamo una volontà di riuscita finché noi qui con Eckhart vogliamo fare la volontà di Dio non stiamo facendo la volontà di Dio perché stiamo facendo ancora la nostra volontà non siamo poveri nel volere non siamo poveri di spirito perché stiamo come dire attuando una specie di trucchetto attribuendo a Dio una volontà che in realtà sarebbe la nostra o dicendo che noi vogliamo fare la volontà di Dio ma appunto non rendendoci conto che questa è ancora una proiezione al nostro ego perciò io vi dico finché avete la volontà di compiere il volere di Dio e avete il desiderio dell'eternità e di Dio voi non siete davvero poveri infatti è un vero povero soltanto colui che niente vuole e niente desidera quando ero nella mia causa prima non avevo alcun Dio e là ero causa di me stesso qui il linguaggio medioevale della causa Dio come causa di tutte le cause come causa prima è anche una delle vie di San Tommaso per dimostrare razionalmente la fondatezza della fede deve esserci una causa prima di tutte le cause non a sua volta causata e qui Eckhart dice quando ero in questa causa prima non avevo Dio alle mie spalle ero ero in Dio ero causa di me stesso ero tutt'uno con la natura autentica con l'abisso il fondo abissale ricordate parlavamo di abgrund o ungrunt un fondo senza fondo uno sfondo questo è uno dei termini che Eckhart utilizza per cercare di andare oltre la nozione di Dio come ente sonno perché finché noi pensiamo a Dio come un ente somno come al vertice di una piramide lo facciamo ancora rientrare all'interno delle cose create lo facciamo ancora rientrare all'interno del nostro stesso pensiero che lo pensa invece dobbiamo uscire dobbiamo sfondare questa barriera del pensiero pensando l'impensato come direbbe Dogen con il senza pensiero vi ricordate Shiryu shi shiryu fu shiryu io devo pensare shiryu soppesare qualcosa di materiale non negando il pensiero perché altrimenti di nuovo resto preda della stessa trappola contrappositiva come l'essere del contrapposto al non essere come un Dio contrapposto alle sue creature un Dio condizionato da ciò che non è Dio questo non è il vero Dio devo uscire quindi anche dal pensiero che pretende di pensare di oggettivare come un oggetto del suo pensiero Dio e anche qui uso termini simbolici essendo termini sono sempre determinati definiti ma proviamo a usarne altri per non fissarci su Dio come ente sommo e usiamo Gottheid in tedesco divinità usiamo Abgrunt Ungrunt usiamo questa dimensione abissale e sono tutti ovviamente tentativi imperfetti poveri siamo poveri anche nel dover fare questo del dover accettare la povertà delle nostre parole se noi accettiamo la povertà allora le possiamo usare liberamente se noi invece non riconosciamo che le parole sono povere rischiamo di riempirle e di fossilizzarle pensando che possano veramente nominare ciò che è al di là di ogni nominazione poche righe più sotto le ultime tre righe della pagina ora diciamo che Dio in quanto è Dio non è il più alto fine della creatura questa è grossa Dio non è il più alto fine della creatura infatti anche la più piccola creatura in Dio ha una altrettanto alta dignità e se avvenisse che una mosca avesse intelletto e potesse ricercare per mezzo di esso l'eterno abisso dell'essere divino dal quale è venuta allora dovremmo dire che Dio con tutto ciò che è in quanto Dio non potrebbe dare a questa mosca compimento e soddisfazione perciò preghiamo Dio di diventare liberi da Dio e di concepire e godere eternamente la verità là dove l'angelo più alto e la mosca e l'anima sono uguali là dove stavo e volevo quello che ero ed ero quel che volevo perciò noi diciamo se l'uomo deve essere povero nel volere deve volere e desiderare tanto poco come voleva e desiderava quando ancora non era in questo modo è povero l'uomo che niente vuole pensate qui la radicalità del discorso la vera povertà è la povertà che si fa talmente spoglia da ritornare a quella condizione primigenia di unità totale che però è massima vacuità ed è anche massima pienezza ed è la pienezza che mi fa dire che Dio non è il fine più alto perché Dio in quanto Dio è ancora una cosa del pensiero una cosa dell'intelletto finché io ancora penso in termini di fine in termini di distanza tra un ente sommo e le creature non sono ancora rientrato non ho ancora avuto accesso a quello sfondo vuoto in cui tutte le cose sono in Dio e Dio stesso come termine si toglie si svuota il Vangelo non è il Vangelo di Dio è il Vangelo del Regno di Dio e anche il grande Tommato Quino dice Deus Ad Dio è soltanto Ad è relazione è servizio no però che fatica facciamo a liberarci anche per leggere il Vangelo a sentire il Vangelo senza manipolarlo dicevo non raccomando che abbiamo messo il silenzio ma non non visto il Dio non è più grande di Angelus Ilesius che è un mistico poeta del XVII secolo in Germania Johannes Scheffler si chiama e poi assume questo nome scrive il pellegrino cherubico di Rubini che è una raccolta di distici poetici di cui uno dei più famosi è quello della rosa che fiorisce senza perché o ne va rum non ha motivo non c'è un perché non ha bisogno di un perché per fiorire la rosa siamo noi il nostro intelletto sempre alla ricerca di cause di motivazioni logiche che richiede una causa invece è pura gratuità e infatti il pellegrino cherubico di Silesio si iscrive proprio in questa storia della mistica occidentale che da Eckhart passa attraverso Cusano e arriva appunto a Silesio Iaco Böhme e poi anche attraverso anche molte figure di mistiche Margherita Porete bruciata sul rogo oppure altre figure contemporanee come Simone Bell che testimoniano in forme diverse con linguaggi diversi questa dimensione della gratuità della spontaneità il distico di Silesio la rosa fiorisse senza un perché a se stessa non vada che tu la guardi guardi non chiede Dio non può avere una parte più grande di me e non può e io non posso essere più piccolo di Dio perché non c'è un punto in Dio dove io non ci sono e non c'è una parte di Dio che non si è in me da un punto di vista diciamo di figurazione simbolica geometrica Cusano esprime questo con la coincidenza del punto della circonferenza un punto è una circonferenza ridotta nella dimensione senza appunto dimensione il seme sì il punto il seme il granello la circonferenza è il massimo che al tempo stesso però coincide col minimo e anche l'ho tracciato l'altra volta la congruenza della retta e della circonferenza di raggio infinito quanto più aumenta il raggio tanto più la curva della circonferenza si attenua e un raggio infinito di circonferenza fa sì che l'arco di circonferenza sia identico ad una retta e quindi se circonferenza se il cerchio di raggio infinito è punto se massimo e minimo coincidono ogni punto dell'universo è il centro e lì c'è Dio in ogni punto quindi ciascuno di noi è centro dell'universo ciascun elemento ciascun frammento e contiene la totalità in nuce in secondo luogo è povero l'uomo che niente sa quindi niente vuole niente sa talvolta abbiamo detto che l'uomo dovrebbe vivere in modo da non vivere né per se stesso né per la verità né per Dio è il discorso della rosa senza perché senza finalità senza causa ma darsi spontaneamente gratuitamente ma ora diciamo diversamente e andiamo più avanti dicendo l'uomo che deve avere questa povertà deve vivere così da non sapere neppure che egli vive né per se stesso né per la verità né per Dio fissarsi su questo è ancora troppo è ancora un sapere troppo è ancora un fissarsi in una consapevolezza fonte possibile di ego di radicamento di attaccamento dobbiamo distaccarci anche da questo tipo di consapevolezza egli deve essere così vuoto di ogni sapere da non sapere né conoscere né sentire che Dio vive in lui più ancora deve essere privo di ogni conoscere che vive in lui quindi deve lasciare deve essere un luogo talmente aperto e libero da lasciare transitare lo spirito senza che ci sia nulla che lo trattenga come il bambino appena nato che attraverso cui transita la vita senza mediazione totalmente immerso o forse ancora di più potremmo dire il bambino nel grembo materno è l'esperienza di fusione immediata che è tutt'uno con ciò che lo circonda certo poi noi sappiamo che invece la crescita significa anche separare bene dal male capire comprendere discriminare non nega questo Eckhart però bisogna riuscire a passare attraverso questa dimensione anche duale per poi ritrovare quel contatto poemigenio altro è l'essere rimasti a prima della nascita altro è essere stati gettati in questo mondo e riuscire a ritornare o a recuperare a far rivivere a rigenerare un verbo che usa spesso anche Eckhart far generare lo spirito di Dio in noi generare la parola Dio si deve incarnare in noi ogni volta quindi non negare la capacità discriminativa ma non arrestarsi ad essa riuscire a ricomprenderla in un orizzonte più ampio infatti quando l'uomo stava nell'eterna essenza di Dio nient'altro viveva in lui cosa la viveva quello era lui stesso perciò noi diciamo che l'uomo deve essere così privo del suo proprio sapere come lo era quando non era ancora e che lasci Dio operare quello che vuole e se ne stia vuoto che qui vuoto non vuol dire lobotomizzato ma vuol dire aperto disponibile lasciarsi attraversare in quanto luogo che accoglie la presenza divina quando si è luogo trasparente che accoglie allora non c'è più questa distanza non c'è più questa volontà che sempre vuole attaccarsi fissarsi e quindi anche possedere perché il fissarsi su una verità diventa subito anche un voler possedere quella verità l'aggrapparsi ad una certezza vuol dire subito anche voler possedere quella certezza e anche nelle relazioni umane affettive succede questo voler essere totalmente aggrappate ad una persona rischia sempre di convertirsi nel voler possedere quella persona pagina successiva a metà io dico perciò che l'uomo deve stare così libero e vuoto ledig unt free dice in alto tedesco da non sapere né conoscere che dio opera in lui e in questo modo può possedere la povertà ecco questa figura del santo del saggio anche nel buddismo è colui che è talmente libero che non sa nemmeno di fare ciò che gli altri ancora legati al dualismo alla discriminazione chiamano bene noi diciamo che bravo che santo fa il bene e il santo dice come io faccio punto come se noi dicessimo inspiro è bene espiro è il male che viene fuori ma in realtà io non penso a questo io respiro semplicemente oppure che bravo che sei come sai far battere il tuo cuore tutti i giorni noi non siamo consapevoli di che il nostro cuore pulsa costantemente un saggio povero di spirito non sa di fare il bene poi probabilmente mi vrebbe da dire fa anche fatica e sa quanta fatica c'è ma accetta quella fatica e nell'accettare quella fatica quella è la santità se per esempio un esempio che mi permette di portare la mamma viene uno che ha fame e bussa e io dico eh io sono cristiano e lo so il Vangelo avevo fame ma avete dato da mangiare venite nel regno del padre mio e glielo dico anche hai proprio trovato la casa giusta perché io sono cristiano e te lo do molto volentieri e gli posso anche citare il Vangelo e vado a prendere il cibo e glielo do un altro invece supponiamo conosciuto come ateo capita uno che ha fame ah guarda ho mangiato un piatto proprio guarda ti apri basta mi ha detto tutto certo io dico perciò che l'uomo deve stare così libero e vuoto da non sapere né conoscere che Dio opera in lui e in questo modo può possedere la povertà i maestri dicono che Dio è un essere un essere dotato di intelletto che tutto conosce alcune delle classiche attribuzioni di Dio i classici attributi di Dio ma io dico Dio non è né essere né essere dotato di intelletto e neppure conosce questo o quello perciò Dio è privo di tutte le cose e perciò è tutte le cose quindi anche qui noi diciamo anche nel Padre Nostro sia fatta la tua volontà ma questa è ancora la parola che noi diciamo perché è potremmo dire in termine buddista è un kupaya è uno strumento utile è ci aiuta a intraprendere un certo tipo di cammino ma dal punto di vista che sta cercando di farci comprendere Eckhart Dio non ha nessuna volontà non è un soggetto portatore di volontà certo Gesù insegna che possiamo chiamare Dio Padre che lo possiamo pensare che ci si può rivolgere a Lui come un soggetto dotato di volontà di personalità è una delle grandi anche intuizioni della storia ebraica che si può dialogare dibattere con Dio che ci si può arrabbiare con Lui questa nessun'altra tradizione l'aveva fatto prima ma attenzione a non far diventare anche questa dimensione un idolo Dio con la barba bianca vestito che amministra la giustizia con la bilancia quanti simboli positivi possono diventare poi rigide convenzioni e quanti attributi che ci aiutano a illuminare degli aspetti del divino per orientarci nel mondo rischiano poi di diventare invece degli orpelli che noi attacchiamo a questa dimensione che di fatto invece è vuota nel senso che non è possibile farla diventare mai oggetto portatore di significati perché sta sempre al di qua di ogni significato perché è l'origine di ogni significato è l'evento dei significati che non può essere a sua volta irrigidito in un significato particolare chi deve essere povero nello spirito deve essere povero in ogni sapere proprio in modo da non sapere niente né di Dio né delle creature né di se stesso perciò è necessario che l'uomo desideri di non sapere o conoscere niente delle opere di Dio in questo modo l'uomo può essere povero nel proprio sapere in terzo luogo è povero l'uomo che niente ha è povero l'uomo che nulla vuole nulla sa nulla ha molti hanno detto che la perfezione consiste nel non possedere alcuna cosa materiale della terra e questo è verissimo nel senso di colui che si comporta così di proposito ma non è questo il senso che intendo io ho detto prima che è uomo povero quello che non vuol compiere il volere di Dio ma che piuttosto vive in modo da essere privo del suo proprio volere e del volere di Dio così come lo era quando ancora non era di questa povertà noi diciamo che è la più alta povertà in secondo luogo abbiamo detto essere povero l'uomo che nulla sa dell'agire di Dio in lui se uno sta privo del sapere e del conoscere questa è la più pura povertà ma la terza povertà di cui ora vi voglio parlare è quella estrema quella dell'uomo che niente ha fate qui molta attenzione ho detto spesso e lo dicono anche grandi maestri che l'uomo deve essere libero da tutte le cose e tutte le opere interiori ed esteriori in modo da poter essere un luogo proprio di Dio dove Dio possa operare ma ora diciamo qualcosa di diverso quindi qui Eckhart è come se dialogasse anche con sé dice vi ho detto questo ricordatevi ma c'è anche dell'altro si può sempre vedere una cosa da più punti di vista si può avanzare non ci si deve mai fissare ad un'unica parola ad un'unica forma se l'uomo è libero da tutte le creature e da Dio e da se stesso ancora tale che Dio trovi in lui un luogo per operare allora diciamo che l'uomo finché si trova in questa condizione non è nella più vera povertà prima dicevo bisogna essere come un luogo per accogliere Dio adesso dico finché ancora ci pensiamo come un luogo che accoglie Dio non siamo nella più alta povertà infatti per il proprio agire Dio non cerca un luogo nell'uomo dove poter operare ma la povertà nello spirito è quando l'uomo sta così privo di Dio e di tutte le sue opere che Dio in quanto voglia operare nell'anima sia lui stesso il luogo in cui vuole operare e questo lo farebbe volentieri capite qui il rovesciamento finché io ancora penso di essere un luogo mantengo ancora una dimensione se vogliamo minima di attaccamento quando invece è Dio che diventa luogo allora non c'è più distinzione tra me come luogo e Dio come luogo c'è luogo assoluto questo è un termine che diventerà centrale nella riflessione di un filosofo giapponese contemporaneo del novecento Nishida Kitaro che parla di Zetaimuno Basho luogo del nulla assoluto il divino è questo luogo è questa matrice questo sfondo questo orizzonte di possibilità da cui ogni fenomeno emerge accoglie tutto si immerge nel luogo e dal luogo emerge ogni cosa già che Dio compie la sua propria opera quando trova l'uomo povero in questo modo e l'uomo subisce così Dio in sé e Dio è un luogo proprio del suo agire l'uomo invece è un puro subir Dio nel suo agire in considerazione del fatto che Dio opera in sé stesso non c'è più alterità non c'è più Dio che agisce su qualcosa che è altro da sé ma l'uomo lo subisce qui subire se io dovessi tradurlo in giapponese userei il verbo ukeru probabilmente che è ricevere accogliere subire non vuol dire essere costretti da una forza che ci mortifica qui è appunto un farsi luogo per ricevere qualcosa nelle arti marziali uke è colui di una coppia che subisce la tecnica la subisce nel senso che la riceve perché è il compagno e ricevendo la tecnica aiuta il suo compagno ad apprenderla ad allenarsi in questo senso non la subisco come qualcosa che mi mortifica ma la ricevo come una forma di relazione che mette in cooperazione due individualità che diventano un'unica cosa è anche un po' come diciamo il subire della donna insieme dell'uomo un accogliere un ricevere e di due si diventa uno e da quella unità si genera qualcosa di nuovo ecco perché uno più uno non fa sempre due ma talvolta fa tre l'unione produce una novità c'è una parola di San Paolo in cui egli dice tutto quello che sono lo sono per la grazia di Dio se ora questo mio discorso sembra tenersi al di sopra della grazia al di sopra dell'essere al di sopra della conoscenza del volere e di ogni desiderio come può essere vera la parola di San Paolo a questo proposito si dovrebbe rispondere che le parole di San Paolo sono vere che la grazia fosse in lui era necessario perché la grazia agì in lui in modo da portare a compimento come sostanziale ciò che era accidentale quando la grazia ebbe compiuto la sua opera e terminò allora Paolo rimase ciò che egli era non è che la grazia quando passa allora ci fa diventare dei supereroi non è che noi acquistiamo poteri paranormali la grazia passa opera e ci lascia così come siamo sembra qualcosa di abbastanza avvilente ma come noi vogliamo sempre i segni miracolosi vogliamo essere trasformati per sempre e invece qua ci dice la grazia passa e ci lascia così come siamo chi è questo che viene così San Paolo San Paolo è santo perché prima anche tagliava le teste e voleva uccidere tutti i cristiani non è che quel San Paolo certo c'è stata la metanoia c'è stata la conversione ma tutto era accolto anche il peccato è accolto da Dio anche il figlio il prodigo peccando è accolto dal padre il padre lo riceve a braccia aperte quando torna ma mi verrebbe da dire non c'è mai un momento in cui il padre manda dice no al figlio guarda in questo momento ti rinnego come figlio se poi ti penti allora sì che ti riaccolgo ma in questo momento io dissento no quando il figlio se ne vuole andare il padre dice va bene vai il figlio chiede la sua parte di eredità il padre gliela dà il padre è sempre con il figlio anche quando grufola con i maiali e si mangia le ghiande quando poi è il momento di ammazzare il vitello grasso ammazzare il vitello grasso in quel momento lì è col figlio quando il figlio è da solo disperato in realtà anche se il figlio non lo sente il padre potremmo dire è sempre con lui quindi c'è questa dimensione di compresenza di consustanzialità che non muta in questo senso nella trasformazione della nostra vita c'è un fondo che non muta ma questo fondo che non muta non è l'essere ontologicamente stabile solido a cui aggrapparsi è l'orizzonte è l'oceano da cui le onde emergono e si immergono non c'è oceano senza onde ma le onde sono sempre nell'oceano ma quindi scusa qui vogliamo dire come dice Paolo di Maggio c'è anche l'idea non tanto Paolo attuale che era stato più ma ciò che egli era verso Dio questa sì potrebbe essere un'interpretazione il padre cioè il volto di Paolo prima sì io direi da un lato questo da un lato c'è questo dall'altro c'è anche Paolo rimase ciò che egli era con tutti i suoi limiti con tutte le sue magagne con tutte le sue anche durezze perché insomma Paolo a certe volte scrive anche delle cose molto molto dure quindi anche qui forse potremmo cercare di unire questi due aspetti il nostro volto originario è anche questo nostro volto qui il nostro essere oceano è anche questo nostro essere onda che sta per arrivare al bagnasciuga e disperdersi non dobbiamo forse anche qui dualizzare c'è questo nostro darsi qui ed ora che è anche la attuazione ora e sempre del volto originario quindi ciò che Paolo è e ciò che egli rimane è al tempo stesso il volto originario e il Paolo contingente di 49 anni di 50 anni di 51 di 52 quindi altrimenti rischieremo secondo me di ritornare al dualismo metafisico per cui c'è una realtà trascendente eterna platonica ideale e questa qui contingente in cui abbiamo mano alla spalla in cui abbiamo problemi al ginocchio in cui abbiamo i pensieri rancorosi invece come se Eckhart e Dogen mi pare cercassero sempre di tenere insieme questi aspetti questa nostra realtà limitata è già il regno il regno è qui in mezzo a voi vuol dire non aspettate di morire sperando che poi ci sia qualcosa dopo non è qualcosa dopo il tempo l'eternità l'eternità è nel tempo nelle pieghe del tempo ogni istante di tempo apre l'eternità ogni nostro istante di volto che si fa con queste rughe in più con questi capelli bianchi che aumentano è espressione del volto di prima di quando fossimo nati anche prima c'è quel volto bello perfetto immutabile e poi ci sono queste sue variazioni più o meno piacevoli ma le variazioni sono anche modi dell'eterno l'eterno non è al di là dei modi è un po' spinoziano come discorso però a me aiuta a pensare questo cioè Dio di Spinoza è Dio come struttura della natura di tutto l'esistente che non è altro dagli infiniti modi attraverso i quali questa natura si dà e in questo senso mi verrebbe da dire che appunto c'è questa tensione dialettica che però è anche unità profonda di temporalità e di eternità di ciò che eravamo prima di nascere di ciò che siamo in ogni momento del tempo che ci ha dato di vivere come si potrebbe dire in ogni momento della nostra vita è presente tutta la nostra vita anche anche è presente Dio in ogni istante la dimensione divina sia quando siamo al top sia quando siamo al fondo quando Paolo dice quando sono più debole è allora che sono più forte è anche un modo forse per dire quando più sento il bisogno di Dio è lì che mi rendo conto che Dio c'è sempre è chiaro che quando stiamo bene ci va tutto a gonfie vele siamo giovani e forti ci sembra di dire ah che bello c'è un bel tramonto siamo appena stati promossi stiamo bene con i nostri familiari è facile sentire la bellezza del creato quando invece tutto va male allora lì diciamo ma dove è Dio e lì dice Paolo ecco che bisogna riuscire a sentire la presenza di Dio anche in quella dimensione poi è giusto va bene anche pregare per ottenere consolazione per avere anche qui povertà di spirito è anche questo non ce la faccio a non sperare che ci sia qualcuno che mi dia una mano anche se poi Eckhart ci dice ricordatevi non usate Dio come una vacca da mungere usa proprio questo esempio se voi pregate Dio per ottenere fate come il contadino che mungia una vacca però chi è veramente povero colui che dice non ce la faccio a non pregare per ottenere chiedo scusa non sono così forte ho bisogno anche di questa preghiera e in quel momento accettando di dover pregare in quel modo accettando che la mia preghiera che il mio Zazen sia tutto fatto in funzione se me ne rendo conto e se me ne rendo conto onestamente quindi se non metto in atto quei giochetti quei trucchetti che la mente sa architettare così bene per cui divento orgoglioso del mio essere consapevole di avere bisogno di quella preghiera perché c'è anche questo sono orgoglioso della mia povertà allora quella non è vera povertà ma quando io veramente non so più che pesci pigliare e accetto questo mio non sapere che pesci pigliare quella è povertà e Eckhart ci dice voi lì siete in Dio non siete altrove ma perché non lo siete mai stati altrove perché non lo potete essere neanche volendo solo che non ve ne rendete conto questa è se vogliamo la paradossale tragedia dell'essere umano che è sempre nella natura di Buddha che è sempre in Dio ma non se ne rende conto e per questo credendo di essere fuori di Dio fa il male vede il male per Eckhart si fa il male perché si vede male perché si sbaglia a capire le cose e allora crediamo che l'altro sia lì per fregarci e cerchiamo di fregarlo noi e crediamo che l'altro sia lì per offenderci e lo offendiamo noi crediamo che accaparrandoci più cose staremo meglio e ci accaparriamo le cose ma sono tutti errori potremmo dire di miopia è un vedere male la realtà che ci fa agire male che ci fa vedere il male sono già le sei per cui non so se abusare della vostra attenzione cinque minuti ancora e così finiamo allora questo questo testo noi diciamo dunque che l'uomo deve essere così povero da non avere e non essere alcun luogo in cui Dio possa operare quando l'uomo mantiene un luogo mantiene anche una differenza perciò prego Dio che mi liberi da Dio seconda volta che lo dice perché il mio essere essenziale è al di sopra di Dio in quanto noi concepiamo Dio come inizio delle creature bisogna leggere alla fine in fondo questa frase perché se uno dice solo perché il mio essere essenziale è al di sopra di Dio uno subito dice ecco questo qua allora è giusto che sia stato condannato che è presuntuoso invece il mio essere essenziale è al di sopra di Dio in quanto noi concepiamo Dio come inizio delle creature se io penso Dio come vertice come ente sonno allora questo è un ben misero Dio questo non è Dio in un certo senso è come il cane è come la natura autentica tu fai essere una cosa o un'altra proprio la stessa cosa in quell'essere di Dio però in cui egli è al di sopra di ogni essere di ogni differenza la ero io stesso volevo me stesso e conoscevo me stesso per creare questo uomo che io sono quell'io sovra essenziale non è più un io psicologico qui è importante anche avvertire la differenza tra il sé del fondo abissale di Dio in cui coincide ogni singolo sé con il sé della totalità divina e il sé psicologico l'io l'ego che è quello che ci caratterizza in questa fase diciamo della nostra esistenza e questo io psicologico non è da mortificare non è da abilire buddisticamente via di mezzo non deve essere né glorificato in maniera tronfia né mortificato avvilendolo questo ego psicologico deve però essere visto per quello che è qualcosa che passerà qualcosa che tende a volersi aggrappare alle cose qualcosa che tende e rischia di farci distogliere dalla dimensione di comunicazione universale il sé invece autentico è quello che incontra Dio al di là di Dio la divinità il fondo abissale perciò in questo senso io sono causa originaria di me stesso secondo il mio essere che è eterno e non secondo il mio divenire che è temporale perciò io sono non nato e secondo il modo del mio non essere nato non posso mai morire quindi non è che questo mio corpo non morirà mai non è che questo mio ego non si dissolverà ma c'è un sé un sé autentico un vero sé shinogico dicono in giapponese un vero sé un sé autentico una natura autentica che è al di là del tempo dello spazio c'è una frase anche di un mistico sufi islamico che dice io sono l'oltre spazio io in questo caso non è più il sé soggetto psicologico ma è questo io che è unico unito con Allah con Dio con la dimensione divina secondo il mio secondo il modo del mio non essere nato io sono stato in eterno e sono ora e rimarrò in eterno cosa invece sono secondo il mio essere nato dovrà morire ed essere annientato perché è mortale e perciò deve corrompersi col tempo nella mia nascita eterna nacero tutte le cose e io fui causa originaria di me stesso e di tutte le cose e se non lo avessi voluto né io né le cose sarebbero ma se io non fossi neanche Dio sarebbe io sono causa originaria dell'essere Dio da parte di Dio se io non fossi Dio non sarebbe Dio ma non è necessario capire questo non preoccupate vi dice ma non è necessario capire questo cioè io vi dico questo sì beh io lo trovo molto misericordioso anche nel senso c'è questo continuo saper collocarsi di fronte a delle persone che perché solipsismo allora qui apriremo un grande capitolo che adesso l'ora è tarda ci impedisce di aprire però da un lato qui c'è si potrebbe intendere interpretare secondo un filone di idealismo assoluto tutto nasce con Dio tutto deriva dall'Io perché se non c'è Dio non ci serve questo bicchiere è Dio che pensa che vede l'oggetto si costituisce il rapporto al soggetto ad un Io però non psicologico ma trascendentale direbbe Kant o direbbe Husser però qua non è questo discorso anche se molti l'hanno interpretato in questo modo secondo me qui dobbiamo proprio abbandonare l'idea solipsistica di un Ego che fa nascere la totalità del Reale perché quello che dice Eckhart è proprio che dobbiamo abolire ogni idea di solus ipse di solipsismo di un Se solo assoluto da cui scaturisce tutto quel Se da cui scaturisce tutto è lo stesso tutto dal punto di vista dell'evento Io Dio e mondo siamo un'unica cosa la Trinità è uno Io Dio anche Vito Mancuso parla di queste cose in alcuni suoi libri Io Dio e Cosmo uomo mondo e Cosmo il Cosmo teandrismo anche di Panica dice che queste tre cose sono co-originarie co-appartenenti quindi io ci sono e perché ci sono io c'è Dio e c'è il mondo ma viceversa io poiché c'è mondo c'è Dio e ci sono io e poiché c'è Dio ci sono io e c'è mondo quindi è una circomincesse o una una circolarità una circolazione continua in cui non c'è nemmeno una causa originaria non c'è un inizio da cui poi tutto il resto procede ma c'è questa sorta di processualità dinamica continua quindi anche l'idea che ci sia un sé un io roccioso autonomo autentico da cui poi le cose procedono è proprio ciò che invece dobbiamo sciogliere lasciare riassorbire in questa dimensione relazionale forse la possiamo intendere pensando questa specularità io prima che fossi nato questo io che è un sé che è sé assoluto che è sé Dio che è Dio stesso si rispecchia in Dio in ciò che non è altro da Dio è proprio come nella Trinità il figlio e lo spirito non sono altro da Dio da parte di Dio vista dalla parte di Dio io sono la causa originaria di Dio ma potrei ribaltare il discorso e vista dalla parte dell'io è Dio che è la causa originaria Dio da parte di Dio è come se ci fosse un continuo movimento quello che mi pare importante è sottolineare il movimento e la relazione piuttosto che non le sostanze noi pensiamo sempre che prima ci sia un A e un B e poi A e B entrano in relazione invece qui è come se ci fosse la relazione che crea Sì da un certo punto di vista sì Lo yin e lo yang è il movimento che mette in relazione i ne yang anche qui non è che ci sia una relazione senza i termini che mette in relazione cioè è come nel campo magnetico nello stesso momento si creano il campo e le polarità non c'è prima il campo e poi le polarità non ci sono prima le polarità e poi il campo quindi la domanda dell'origine è una domanda malposta perché non c'è un'origine c'è un continuo squadernarsi di quinte di tempo ogni volta che io credo di aver trovato l'origine la dico e in realtà mi è sfuggita sullo sfondo perché nel momento in cui l'ho detta l'ho irrigidita l'ho reificata l'ho sostanzializzata ma la vera origine non è quella cosa che io dico non è il big bang non è Dio prima del tempo quel Dio che io dico essere origine è già una creazione del mio pensiero infatti potremmo anche qui dire con l'angelo di Giovanni in principio era il logos anche Panica dice il logos era in principio ma non era il principio io come essere umano devo partire dal logos non riesco a risalire al di qua di esso perché ogni volta che cerco di farlo trovo ancora logos io cerco di uscire dal mondo ma ogni punto che credo essere fuori dal mondo è ancora mondo arrivo ai confini del mondo cosa faccio metto fuori la mano trovo ancora mondo trovo ancora una dimensione di spazio quindi in principio non è dicibile non è pensabile è superiore al pensiero non è da pensare è come l'incipit ebraico della Bibbia Bereshit che è la come una specie di DC e molti esegeti dicono da lì inizia la Bibbia da lì inizia la creazione ma la il bet della scrittura ebraica che appunto è chiuso a sinistra è chiuso a destra è aperto a sinistra perché appunto si legge si scrive da destra a sinistra pone come dire un limite alla possibilità del dicibile da quel momento in poi c'è Genesi Bereshit in principio ma al di qua del principio non si può pensare ogni volta che provo a pensarlo è ancora pensiero è già mondo chiudiamo queste considerazioni prese soltanto come nozioni si direbbe in giapponese proprio motainai ossia sarebbe proprio uno sperpero questo è questo che oggi ci è dato di a cui ci è dato di aprirci no veramente credo che sarebbe uno sperpero ecco terminassero qua se questa apertura che il fondo di tutto ciascuno di noi è il fondo di tutto e questa nobiltà anche della realtà davanti anche al scorrere della storia oggi è un peccato se noi andassimo a casa e non sentissimo quello che è il buddismo che chiama il risveglio o il Vangelo chiama risurrezione o rigenerazione proprio già nella nostra vita stessa noi ci siamo incantati davanti alle foglioline dell'acero il quale proprio sta vivendo quello che dice la veritudine dei poveri lui non lo sa cosa sta facendo non lo sa niente ed è questo questo disincanto dall'ansia che oggi il mondo è incupito dall'ansia disincanto dall'ansia ovvio sperimentando questa questa nobiltà che è il fondo del nostro essere qua come il fondo di tutte le cose che sono bene allora rinnovo il ricordo che sabato prossimo c'è il ritiro di una giornata e che poi il sabato santo 19 c'è il ritiro di una giornata comunque bene grazie 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 che il coordinatore abbia una cosa da dire molto veloce la cosa che volevamo condividere è che ci sembra che questi incontri molto intensi oggi in particolare credo molto intenso però stiano muovendo qualche cosa e che come diceva padre luciano stiano generando qualche cosa di bello di prezioso per cui si era pensato di proseguire anche dopo il termine di questo ciclo di sette sabati in particolare di avere un programma per l'anno prossimo su cui ci sono un po' di ragionamenti sulla formula da adottare sulle modalità migliori probabilmente stavo pensando anche di dare un po' più di spazio a una discussione più ampia con le persone in modo che sia più a due vie di quanto sia successo in questo percorso che però comunque preveda uno schema simile con uno studio di autori e una riflessione di questo tipo con Marcello che avrà più impegni ma che cercherà di trovare lo spazio del tempo spontaneamente senza volere senza sapere esatto volevamo chiedere adesso ovviamente è presto perché è una cosa un po' in riflessione però volevamo chiedere se anche da parte vostra questo interesse c'è nel proseguire anche dopo questa questo percorso pianificato dobbiamo alzare la mano oppure potete esprimere potremmo anche dedicare un po' di spazio a questo all'ultimo anche con le vostre idee insomma i suggerimenti magari la prossima volta possiamo parlare volentieri possiamo dedicare solo magari una parte prima parte alla lettura dei testi e poi la seconda dopo la pausa discutere insieme delle idee di spazio